e condivido lo schermo, andrò abbastanza piano perché chiaramente nello streaming si perde un po' la qualità, dopo tutto non siamo la RAI, anzi anche la RAI ha problemi, figuriamoci noi, anche se questo strumento devo dire funziona abbastanza bene. Allora, vedo che va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, grazie, 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 bravissimi. Ok, potete continuare a scrivere, poi quando ci sono domande le filtreremo poi alla fine. Bene, qui vediamo dall'alto con Google Maps la città del Vaticano, stato del città del Vaticano, fra la massodontica Basilea di San Pietro e i musei vaticani, quelli che oggi sono i musei vaticani, vi è appunto questo edificio di fondamentale importanza che è appunto la Cappella Sistina, che rispetto al gigante della Basilea che è lunga oltre 200 metri, con la cupola alta quasi 140 metri, chiaramente sembra microscopica, ma è un edificio abbastanza grande perché misura 40 metri di lunghezza e 14 di larghezza, quindi abbastanza alto, e ha dall'esterno questo aspetto di fortilizio, si trova proprio parallelo alla Basilica ed è connesso con gli edifici già di origine medievale, poi ristrutturati nel 400 e nel 500, la Torre Borgia che vediamo, gli appartamenti dove vi sono le stanze di Raffaello, e si collega poi il tutto con il Palazzo Apostolico, che è il palazzo dove risiedono i papi, anche se Papa Francesco, come magari sapete, non vi risiede perché chiaramente risiede da un'altra parte, scusate ho perso il controllo del video, e questo è appunto il Palazzo Apostolico. Quindi la Cappella Sistina è proprio nel cuore della città del Vaticano ed è proprio anche simbolicamente il cuore del mondo cattolico. Intanto vi faccio subito prendere diciamo una boccata di bellezza, se vogliamo, con questo programma che è una riproduzione fedelissima fotografica della Cappella Sistina in foto a 360 gradi, navigabili. Adesso riusciamo e ci mettiamo sulla porta che conduce alla Scala Reggia e da qui ecco come se noi entrassimo venendo non dall'ingresso che viene utilizzato dal pubblico, che è stata la parte opposta, ma dall'ingresso da cui appunto entravano i pontefici e gli ospiti d'onore. E appunto si vede questa meraviglia con questi colori così brillanti, con centinaia e centinaia di figure in totale tra la Cappella Sistina, tra la volta, il giudizio universale di Michelangelo e gli affreschi sullati, vi sono oltre mille figure dipinte nell'arco di oltre 50 anni, quindi veramente uno dei massimi capolavori dell'arte occidentale. Questa riproduzione, questo modello è disponibile gratuitamente sul sito dei Musei Vaticani, se andate sul sito museivaticani.va trovate queste riproduzioni di 360 gradi gratuitamente, le potete utilizzare, non c'è un commento e quindi questa sera quello che io farò sarà di realizzare questo commento. Una appunto avvertenza che devo dare soprattutto a chi si collega da Facebook, da qualche settimana ci sono degli hackers, che sembrano indiani o comunque del sud-est asiatico, che continuano a mettere link a siti a pagamento che richiedono carte di credito per visionare questo sito. Questo è tutto gratuito, non dovete pagare nulla, non dovete mettere la carta di credito da nessuna parte, se vedete gente che mette link, link e paste il link, cliccate e segnalateli perché chiaramente non siamo noi, il nostro sito è solamente quello dei Grand Tour, quindi non ci credete. Purtroppo ci abbiamo segnalato più volte ma Facebook non prende azione. Iniziamo a parlare della cappella Sistina, utilizzerò, come ho detto, più sistemi, quindi uso la presentazione da cui entro ed esco, è un pochino macchinoso però stiamo sviluppando un sistema un pochino più fluido ma chiaramente ci vuole tempo e questa è una cosa che è stata messa su in tempi abbastanza recenti. E quindi vediamo appunto la volta che vi ho fatto vedere prima e la nostra storia oggi comincia con questo signore Gianluigi Colalucci, capo restauratore dei musei vaticani negli anni 80, da fine degli anni 70 negli anni 80 fino al pensionamento che è avvenuto alla fine degli anni 90. Colalucci era un appassionato di restauro sin da bambino. Lui in un'intervista, di cui vi farò vedere un breve brano, parla della sua prima esperienza ai musei vaticani quando a dieci anni entrò da bambino nei musei con uno zio e si innamorò dell'arte e il suo desiderio era quello di essere a contatto con l'opera d'arte, quindi non studiare storia dell'arte o diventare un critico, un teorico, ma proprio di mettere le mani sulle opere d'arte e quindi frequentò l'Istituto Superiore del Restauro che forma restauratori professionali che sono i veri eroi della tutela dell'arte, perché sono coloro che effettivamente rischiano mettendo mani su capolavori che hanno centinaia, centinaia di anni e quindi è veramente un lavoro eroico. E qui vediamo proprio Colalucci alle prese, con il delicatissimo affresco della creazione di Adamo, che poi vedremo in maggior dettaglio, e vedete la differenza tra l'oscuro della pittura e appunto la parte pulita. Adesso vi faccio ascoltare, però forse devo fermare un attimo lo share e rimandarlo, scusate perché non ho messo l'audio. Vi faccio ascoltare un'intervista rilasciata da molto tempo fa, vedete, molto anziano adesso. Colalucci ha scritto tra l'altro un bellissimo saggio, Io e Michelangelo, che trovate anche in libreria, dove racconta il suo rapporto con Michelangelo, perché Colalucci ne fa un fatto personale. Lui ha avuto proprio un dialogo con Michelangelo e io ho ascoltato moltissimi professori, direttori, parlare di Michelangelo, direttore Paolucci, sicuramente una delle persone più gradevoli, ma l'amore e la passione, l'intimità con cui Colalucci parla della Cappella Sistina è un qualcosa veramente di fenomenale. Vi faccio ascoltare soltanto un breve momento in cui lui descrive l'inizio dei restauri che avvengono quasi per caso. Lui si trovava, avevano messo l'impalcatura su in questa zona, ve la faccio vedere qui nel modello 3D, praticamente qui a restaurare questi affreschi che sono della fine del Cinquecento, rifatti perché quelli originali del Quattrocento erano stati danneggiati da crolli e crepe e che erano molto danneggiati e che con la luce restaura alla fine degli anni Settanta. L'impalcatura era proprio qui, qui sotto, e si arrivava a Michelangelo, Michelangelo era poco più su, quindi bastava poco, e lui descrive proprio questo momento. Ve lo faccio raccontare dalla sua stessa voce. Alzando gli occhi vedo a due passi la lunetta di Michelangelo. Allora ho detto, ma andiamo a vedere sta lunetta. E ho fatto tirare su il ponteggio fino alla lunetta di Alzar. Ho preso un fazzoletto e l'ho bagnato di saliva e dopo ho fatto una prova di pulito, cioè ce l'ho passato sopra. Perché Giovanni Urbani sostiene, i restauratori non sanno mai stare fermi con le mani. però è per fortuna, perché a quel punto ho visto che si squagliava qualche cosa di marroncino sopra e comincia a venire fuori un bel colore ocra. L'impressione è stata grande, devo dire, nel momento in cui abbiamo scoperto questa lunetta. Beh, io devo dire che quando ho visto Eleazar, questo giovanotto biondo con tutti quei colori, io mi sarei messo in ginocchio davanti a questa figura, perché era una figura di una bellezza e di una... ma veramente non c'era niente da dire. Adesso ve lo spiego, è molto commovente. Lui dice, appunto, la figura è questa qui di Eleazar che si trova qui in alto. Adesso noi utilizziamo sempre questo mezzo, saliamo su, perché questa riproduzione digitale ha il vantaggio che si può salire sul livello delle finestre, che oggi è chiuso al pubblico e ci salgono soltanto gli elettricisti per cambiare le lampadine, che tra l'altro adesso non si cambia nemmeno più perché c'è una illuminazione con 20.000 LED, per cui di quelli che durano tantissimo. Praticamente si trova qui a questa altezza e questo Eleazar è uno degli antenati di Cristo, si trova proprio qui, sopra appunto la parete est, quella che dà verso, diciamo, il Tevere e che è la parete d'ingresso, proprio accanto allo stemma della rovere sia di Papa Sisto IV che di Giulio II di cui adesso parleremo. E per capire la sua emozione, lui dice, quando ho visto questa figura di questa bellezza mi sarei messo in ginocchio, quindi come fosse una cosa divina. E questo è proprio lo stupore e l'amore che lui ha provato per gli affreschi di Michelangelo e che si vede nel restauro che è magistrale. Perché se noi andiamo a vedere, vi faccio vedere le foto di com'era la Sistina prima del restauro e sicuramente io, ero bambino per cui, non ricordo la Cappella Sistina, ricordo la Cappella Sistina in restauro nella parte terminale, perché già avevo iniziato a lavorare, ma non nella parte, diciamo, della volta. Ecco, questo è l'azzar sulla destra. Vedete questo ragazzo con questi capelli ramati, con questo bellissimo viso, con questa posa così elegante, e quello sulla destra. E la lunetta sono queste, diciamo, appunto, queste parti della parte che collega la volta con la parete, che hanno questa forma appunto di mezzaluna, e questa camicia bianca così brillante, questa mezzaluna. Gli affreschi della volta apparivano così. La foto di testa non è molto bella, però si capisce che erano scurissimi. Perché? Perché, come dice Colalucci, c'era uno strato di grasso che era frutto di secoli e secoli di restauri e di protettivi. Erano state delle cere, degli oli, dei grassi, che si erano irranciliti e scuriti, e in più si erano mischiati col fumo, chiaramente, delle candele, di secoli, di candele, di incensi, e di quant'altro si usava nell'illumine al petrolio, di quant'altro si era usato fino praticamente al Novecento quando venne interlottare l'illuminazione elettrica. Quindi, da questa Cappella Sistina, che nella storia dell'arte era sempre ritenuto il capolavoro tenebroso di Michelangelo, un qualcosa di assolutamente pesante, di greve, Vasari ne aveva detto un capolavoro di terribilità, aveva utilizzato questa parola, diciamo, un po' forzata per descrivere questo sentimento di cupezza interiore, di dannazione e di disperazione. E invece, con la luce, con i restauri, di cui vediamo un'altra foto, scopre un Michelangelo dai colori brillanti e accesi, che poi, in seguito, anni dopo, gli storici dell'arte hanno potuto capire e spiegare tutti quei discepoli, quegli allievi, quegli imitatori di Michelangelo, che non assomigliano per niente al Michelangelo cupo della Sistina, ma assomigliano molto al Michelangelo della Sistina brillante, restaurata, come per esempio Rosso Fiorentino e gli altri pittori manieristi del Cinquecento Fiorentino e questi chiaramente hanno dei colori che altrimenti non si spiegherebbero. E qui vediamo il prima e il dopo. Pensate che quando iniziò il restauro, Colalucci fu molto cauto, anche perché inizialmente il direttore volle vedere un primo saggio, il saggio Piacque, Papa Voitila insistette affinché si facesse il restauro, vennero trovati i soldi grazie a molti finanziatori e sponsor di tutto il mondo, principalmente la televisione giapponese, ma anche altri sponsor americani, europei e italiani. Ma vi fu una delle differenze, se vedete in alcune foto e nel dopo, la figura è molto più brillante, ma è anche molto più piatta, c'è meno profondità. Questo perché? Perché Michelangelo, oltre all'affresco, di cui poi parleremo, aveva utilizzato anche le lumeggiature, delle ombreggiature fatte con le candele, con il nero fumo, per creare appunto delle ombre e delle velature. Ora, le velature nella pittura si ottengono con la tempera, con chiaramente una serie di vernici, una serie di fissativi trasparenti, ma sull'affresco questi non funzionavano e quindi veniva fatto con appunto con il fumo, con il fumo di una candela. E queste lumeggiature, se vedete il particolare del ginocchio, nel ginocchio di sinistra si vedono, in quello destro no, anche se altre parti, per esempio il volto del puttino dietro questa figura di profeta, vedete che praticamente e chiaramente non si non si vedeva, sembrava, aveva questi due macchie scuri al posto degli occhi. Vedete il primo e il dopo, per esempio, questo è il cartiglio del nome di Jonas, che sta proprio sopra al giudizio universale, vedete che sono state lasciate come pietre di paragone alcuni riquadri scuri, originali, come testimonianza, in caso in cui si perdesse qualcosa nel restauro, si aveva sempre una pietra di paragone. Con la luce tra l'altro ci mise molto tempo per pulire appunto alcuni dettagli, alcuni volti, proprio perché aveva timore di cancellare alcuni degli affreschi Michelangeleschi, anche se su questi affreschi poi si era già intervenuto alla fine del Cinquecento e poi più volte con restauri, piccoli ripinture, qualche pezzo che era venuto giù, quindi in realtà il risultato è molto diverso. Qui vedete il dettaglio del ginocchio, sulla sinistra vedete soprattutto la cornice, ha quei dettagli architettonici qui in basso a sinistra che nella figura di destra sono scomparsi. Alcuni, fra cui anche molti pittori, artisti, artisti contemporanei, firmarono proprio una petizione centinaia di artisti, fra cui anche per esempio Andy Warhol, che è appunto il famoso artista della pop art, i quali erano contrari a toccare Michelangelo, ritenevano l'opera d'arte sacra e intoccabile, ma con il restauro molto coraggioso si è dimostrato invece che il vero Michelangelo, quello più autentico, anche se magari con qualche, posso dire, sciupatura del tempo, qualche, qualche, scialbatura e qualche, qualche manchevolezza è rimasto. Dopotutto non si può immaginare che un oggetto, appunto un affresco, un'opera d'arte, siano eterni e si possano conservare nei secoli intatti. È chiaro che vi è un cambiamento, una patina di antico, ma sicuramente è meglio perdere qualche dettaglio piuttosto che avere un capolavoro deturpato dallo sporco. Veniamo alla Cappella Sistina oggi, qui vedete appunto un'altra visione aerea. La Cappella Sistina venne realizzata tra il 1478 e il 1480 da Papa Sisto IV in questo affresco che è di un altro pittore del Quattrocento, Melozzo da Forlì, che ritrae il Papa, Sisto IV, questo affresco è un affresco staccato che si trova all'interno dei Musei Vaticani, seduto su una sedia il quale sta dando l'incarico a Bartolomeo Platina di creare la Biblioteca Vaticana. Il Papa già aveva una collezione di libri ma non vi era una vera e propria biblioteca. Venne creata fra le varie istituzioni e creazioni del Papa Sisto IV appunto alla fine del Quattrocento, nel 1475. E qui troviamo al centro in piedi con questa testa con questa bella tonsura il Cardinale Giuliano dei Medici, il Cardinal Nepote. Già dal Quattrocento i Papi avevano questa abitudine appena eletti di nominare anzi già dal Medioevo di nominare almeno uno o due cardinali fra i loro nipoti parenti stretti perché così garantivano alla famiglia in caso di morte improvvisa una continuazione e un'altra opportunità di avere un Papa in famiglia che poteva portare enormi benefici alle famiglie che avevano appunto un Papa. E poi vi sono altri gli altri nipoti il Riario e così via. Sisto IV fu anche il Papa che diede l'incarico di costruire la Cappella Sistina a Baccio Pontelli e viene realizzato appunto con questa architettura di tipo un po' se vogliamo militare. Questo perché appunto Pontelli era appunto architetto militare e diciamo realizza un'architettura se vogliamo similmilitare. Architettura che ha delle difficoltà perché sorge già su una cappella preesistente la cosiddetta Cappella Magna e che si eleva a questa grande altezza. Il progetto originario era un pochino più basso lo vedete in questa foto rispetto alla fotografia nel disegno successivo vedete che il tetto era più basso questo perché viene rialzato in un secondo tempo perché vi erano dei cedimenti e delle infiltrazioni del tetto e in questo rialzare il tetto si ricaveranno addirittura degli appartamenti utilizzati per un periodo anche dagli svizzeri. La cappella Sistina ha delle dimensioni che sono di 14 metri di larghezza 40 di lunghezza e 20 di altezza quindi è lunga e stretta questo perché ricalca le dimensioni di un famoso tempio il tempio di Salomone a Gerusalemme e quindi si ricollega in qualche modo con la sacralità del luogo del luogo diciamo più sacro per eccellenza quindi il tempio di Salomone da cui appunto deriva appunto il luogo di culto principale dell'ebraismo fino alla diaspora e che quindi come a voler rinnovare quella sorta di patto con Dio nella nuova Gerusalemme che appunto diventa Roma nel rinascimento. Questo è un disegno che mostra come era la cappella Sistina nel 400. Ora nel 400 vi sono una serie di guerre di avvenimenti politici molto molto diciamo complessi che porterebbero via troppo tempo però sappiate che i vari stati italiani lo stato della chiesa il regno di Napoli Firenze Siena il Gran Ducato di Milano la Repubblica di Venezia Genova Mantova tutti questi vari stati e staterelli erano costantemente in guerra l'uno con gli altri utilizzando vari alleati esterni che potrebbero essere la Francia la Spagna l'impero e così via e queste vicende sono importanti perché si riflettono anche nella costruzione della cappella Sistina e come vedete inizialmente la cappella Sistina aveva gli affreschi soltanto lungo le pareti quindi non sulla volta e chiaramente la parete dell'altare non aveva il giudizio universale che sarà realizzato soltanto molto dopo la volta aveva questo cielo stellato di cui abbiamo delle immagini vi faccio vedere una un po' più ingrandita anche se sgranata era un cielo stellato dipinto da Giovannino De Dolci alla fine del 400 e che poi sarà ricoperto all'inizio del 500 da Michelangelo ma come arrivano artisti come Botticelli Chirlandaio e Perugino a realizzare gli affreschi dei lati adesso rientriamo nella cappella Sistina anzi riscendiamo utilizzando questo modello ci portiamo verso l'altare attraversiamo questa transena poi dopo parlerò e spiegherò tutti i vari dettagli comunque se avete domande le potete mettere poi le reggeremo più avanti e in pratica ecco la porticina questa di destra tutta con questi segni di grasso questo è grasso di mano di turista perché chiaramente noi non ci pensiamo ma le nostre mani hanno un piccolo grasso e quando tocchiamo qualcosa di poroso questo grasso li trasferisce sia sul marmo che sul legno e quello è il segno si vede chiaramente ecco quando vi dicono non toccare nei musei perché chiaramente una volta non succede nulla ma milioni di mani pensate che l'anno scorso nel 2019 credo 6 o 7 milioni di persone sono entrate attraverso questa porta un numero esorbitante stiamo proprio sotto la parete con il giudizio finale di cui parleremo dopo e inizialmente gli affreschi erano questi sui lati in basso vi sono queste tende dipinte questi tendaggi dipinti con lo stemma dei dollar rover di cui adesso parleremo e poi vi sono questi cornici che hanno sei riquadri per lato più ve ne erano altri tre anzi due sul lato est e sul lato ovest che questo ve ne erano addirittura tre con scene a sinistra della vita di Mosè qui vediamo Perugino che ha dipinto la circoncisione del figlio di Mosè i primi episodi della vita di Mosè e Botticelli accanto e dall'altro lato troviamo episodi della vita di Gesù con il battesimo di Cristo sempre di Perugino e accanto troviamo le tentazioni di Cristo e quindi ritorniamo a Botticelli successivamente poi vi sono altri artisti Cosimo Rosselli Biagio d'Antonio Ghidlandaio Signorelli tutti artisti che erano o fiorentini o comunque lavoravano a Firenze come arrivano questi artisti a Roma a lavorare per il Papa tra il 1480 e l'83 ebbene arrivano attraverso una congiura politica un tentativo di assassino dove tra i vari congiurati vi era anche Papa Sisto IV un Papa che cospirava come un altro capo di Stato contro un altro capo di Stato in questo caso Lorenzo il Magnifico adesso vi racconto questa storia parlo ovviamente della congiura dei Pazzi di cui molti hanno sentito parlare nel 1478 il 26 aprile che era il giorno di Pasqua il cardinale Riario che era di ritorno da un pellegrinaggio forse da una missione diplomatica si ferma a Firenze celebra la messa nella cattedrale di Sant'Anna del Fiore e assistono chiaramente i medici tra cui Lorenzo e il fratello Giuliano e il Riario forse era d'accordo forse no ma comunque il Papa aveva organizzato con altre famiglie locali tra cui appunto i Pazzi di assassinare i medici entrambi i fratelli con un piano degno del film il padrino sembra il padrino parte seconda parte terza perché addirittura hanno alcuni sicari che vanno a prenderli sotto casa li accompagnano non li lasciano mai ed è veramente una congiura studiata nei minimi dettagli sulla destra vedete il ritratto di Papa Sisto IV ritratto fatto poi nel Rinascimento e sulla sinistra chiaramente Lorenzo il Magnifico Lorenzo sfugge alla congiura riesce a sopravvivere ma il fratello Giuliano viene ferito moltarmente quindi che cosa avviene avviene chiaramente l'inizio di una guerra il Papa aiutato dal vicere di Napoli muove delle truppe contro Firenze che arrivano pochi mesi dopo nel Chianti e si fermano perché ormai è inverno nel frattempo l'anno seguente quando era ormai momento di attaccare Firenze arrivano i turchi che attaccano Otranto e uccidono migliaia di persone e quindi il Papa indice una crociata contro i turchi e sarà quindi la liberazione chiaramente di Otranto sul della Puglia dei turchi dove però si uniranno anche i medici questo è il motivo davanti a un amico più grande per fare la pace e a suggerire questa pace il Papa riesce che da sempre diciamo estremamente abile riesce ad ottenere che gli artisti più importanti appunto del del Quattrocento vengano inviati a Firenze come dono per decorare la cappella che il Papa aveva appena fatto terminare quindi diciamo è un suggello di un'operazione politica e chiaramente questo è un compendio del Rinascimento ora io non parlerò di tutti gli affreschi perché ci vorrebbe una settimana sappiate che questi affreschi sono stati recentemente restaurati che ha consentito di scoprire tutta una serie di altre informazioni faccio diciamo un esempio di alcune ma sono veramente affascinanti noi di solito quando si fa la visita a Cappella Sistina si pensa a Michelangelo e anche noi questa sera parleremo principalmente di Michelangelo ma ci tenevo anche a parlare di questi capolavori pensate alle persone che vanno agli uffizi a vedere la Venere del Botticelli o la nascita di Venere o la primavera del Botticelli ebbene in Cappella Sistina c'è un Botticelli altrettanto grande altrettanto bello se non forse ancora più significativo e quindi è importante diciamo parlarne questo è Perugino che chiaramente ha questo stile così grazioso così appunto armonico con una miriade di figure un bellissimo paesaggio lo soleggiante il Cristo in questa sorta di mandola vedete rappresentato con questi puttini questi cherubini che poi saranno in parte ripresi anche dal suo allievo Raffaello Perugino appunto era della generazione precedente a Michelangelo Raffaello così come Botticelli era un coetaneo e coallievo aveva studiato secondo Vasari alla bottega del Verrocchio insieme all'Eronato Da Vinci quindi insomma erano parte di una delle migliori scuole del rinascimento fiorentino e gli artisti sono appunto si tramandano di generazione in generazione per diventare artista si andava a bottega ad un altro artista non esistevano scuole la prima accademia sarà quella appunto fondata dai medici a Firenze e poi l'Accademia del Disegno fondata a metà del Cinquecento sullo sfondo vediamo un omaggio a Roma c'è il Pantheon c'è il Colosseo ci sono le mura e poi un arco di trionfo appunto l'arco di Costantino comunque un arco generale di trionfo cioè questa idea appunto che la presenza a Roma del Papa della capitale dell'impero Roma dell'antica capitale dell'impero romano trasforma questa città eterna in città santa e quindi vi è questo collegamento con la tradizione andiamo avanti perché appunto ognuno dei dettagli questo qui no scusate sbagliato questa foto è di un altro affresco nella parete opposta ve la faccio vedere dalla appunto siamo abbiamo detto da questo lato lato sinistro abbiamo dei episodi della vita di Mosè e sulla destra quelli di Gesù Cristo che però sono affrontati l'uno all'altro perché perché chiaramente così come Gesù da inizio al cristianesimo Mosè è arrivato all'inizio all'ebreismo e quindi c'è questo parallelismo quindi c'è la circoncisione del figlio di Mosè davanti alla battesimo di Cristo e poi vi è l'episodio appunto i primi episodi della vita della vita di 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 Mosè e ve lo faccio vedere con una foto con maggior dettaglio dove c'è Mosè al centro con le figlie dietro vedete anche i caproni un 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 ritratto che assomiglia molto alla modella più volte utilizzata da Botticelli Simonetta Vespucci che compare appunto nella primavera compare in Ascita di Vene compare in molte opere quindi una delle donne più belle del suo tempo celebrata dai fiorentini pensate che quando venne portata morì ventenne e quando venne fatto il funerale a Firenze venne portata in un ferretro aperto per poter dare tutti i fiorentini l'opportunità di ammirare la sua bellezza un'ultima volta quindi veramente un elemento estremamente romantico e troviamo appunto la fuga degli ebrei vengono portati fuori dall'Egitto dopo che Mosè si era scontrato appunto con gli egiziani aveva capito che e qui queste scene di lotta che appunto gli ebrei erano schiavi e aveva ricevuto da Dio in persona attraverso la visione del rovetto ardente che si trova in alta a sinistra vedete Mosè che si toglie le scarpe in segno di rispetto si inginocchia davanti al Signore che compare fra le fiammelle che gli indica la via per la terra promessa dove gli ebrei però arriveranno soltanto 40 anni dopo e qui appunto tra gli ebrei vi sono anche dei mori e vi sono anche degli animali tra cui questo cagnetto cagnetto che non è casuale questo stesso cagnolino compare per ben sei volte in questi affreschi gli affreschi di diversi artisti che poi vi farò vedere e che lavoravano più o meno come una sorta di catena di montaggio tutto insieme e compare perché era il cane di Cosimo Rosselli che lo teneva come animale domestico diciamo e probabilmente se lo portava al lavoro e questo cagnetto probabilmente giocava un po' con tutti i pittori i pittori hanno iniziato a fare quasi a gara a inserirlo nei vari affreschi quindi c'è anche questo elemento diciamo scherzoso e poi ovviamente non manca l'abbondanza di oro perché ovviamente il Papa è il rappresentante di Dio in terra l'idea del Papa povero umile è un'idea che non appartiene al Quattrocento di Nascimento in generale non appartiene alla Chiesa Cattolica se non in rarissimi casi tra cui appunto Papa Francesco ma già per esempio Ratzinger non la pensava così metteva l'ermellino si vestiva in maniera pomposa le scarpe di raso che non erano di Prada ma erano comunque scarpe di raso perché è sempre stato così e nei questo rovere si riprende lo stemma appunto della famiglia della rovere ritorniamo nel tour virtuale della Cappella Sistina in fondo dove c'è la porta in alto alla porta principale adesso facciamo una zoomata c'è proprio lo stemma della rovere le chiavi incrociate e poi la rovere poi lo rivediamo dopo da vicino ma questo viene ripreso negli stemmi lungo questa decorazione il rovere d'oro con appunto sul fondo blu torniamo alla presentazione perché vi voglio far vedere il dettaglio di questa scena che è una scena appunto molto bella molto ricca appunto le ghiande questo è il dettaglio di uno dei roveri che sta al centro della fresco di Botticelli sono fatte in cera sono tridimensionali sembrano quasi degli insetti ed erano dorate ed erano rilucenti quindi è una sorta di effetto speciale chiaramente si è perso nel corso dei secoli la doratura la brillantezza ma dovevano essere veramente estremamente brillanti in origine andiamo avanti vediamo il cagnetto questo è rappresentato in un'altra il cagnolino io lo chiamo cagnetto la romanesca però è un cagnolino e poi troviamo successivamente dalla parete opposta la chiamata dei discepoli Pietro e Andrea questo è un affresco di Ghirlandaio infatti le figure sono più statuarie hanno dei colori più accesi e sono con delle tonalità se vogliamo una tavolozza uno schema di colori diversi ogni artista ha due cose che lo contraddistinguono e con l'esperienza conoscendo frequentando i musei vedendo le opere d'arte conoscendo le opere d'artisti si impara a fare l'occhio come dicono appunto i critici dell'arte e i storici dell'arte che la storia dell'arte chiaramente basa le proprie indagini sui documenti sulle prove alla fine c'è sempre quel sentimento quella capacità di percepire una mano un colore che ti fa percepire e proprio sentire che l'opera è di un artista piuttosto che di un altro tutti i più grandi critici d'arte quando leggete le loro dimostrazioni delle loro attribuzioni di opere alla fine finiscono sempre col dire guardandolo si capisce perché si sente e si sa Ghirlandaio chiaramente la delle figure più statuali Ghirlandaio ebbe a bottega come allievo Michelangelo anche se poi il rapporto non finì benissimo a meno quanto ne diceva Sari e troviamo in alto a sinistra qui sulla sinistra due figure tra cui il ragazzo di destra con questa Ghirlanda fra i capelli questo espediente questi ritratti molto belli si si chiama criptomania criptos vuol dire nascosto in greco ed è praticamente un'immagine che serve a sostituire la firma ora gli artisti come sappiamo nel medioevo non si firmavano nel rinascimento cominciano a firmarsi ma diciamo la cosa non è poi sempre diciamo ben visibile non è sempre certa chiaramente poi le attribuzioni variano e quindi molti artisti cominciano a mettere il loro ritratto oppure un oggetto un simbolo e fanno queste sorte di rebus ve ne sono diversi nella Cappella Sistina questo è uno dei più belli ve ne è un altro nella parte diciamo quando le storie di Mosè con Mosè il Vitello Toro dove Cosimo Rosselli un altro dei pittori che lavora in questo grande cantiere dipinge un piccolo vasetto di colore rossa con appunto il pennello quindi Rosselli di Pinze e questo appunto è il vasetto il vasetto che tra l'altro sporge sul bordo un pochino e qui ve lo faccio vedere è praticamente questo episodio qui andiamo un pochino più avanti e si trova praticamente il vasetto si trova qui non si vede benissimo qua ai piedi di questa fanciulla col cagnetto anche che sporge quindi un altro cagnetto e Mosè che scende dal Sinai si arrabbia perché gli ebrei stanno venerando il vitello d'oro chiaramente questa è una cosa che mi ha molto sorpreso quando voi se voi leggete il saggio fatto molto bene divulgativo ma fatto molto bene di Alberto Angela ho sentito lo speciale che ha fatto la Sestina la prima cosa che dice è che gli affreschi erano la Bibbia dei poveri servivano a spiegare alle persone che non potevano leggere la storia sacra ma ed è vero per molte cattedrali per molti grandi chiese pubbliche la Cappella Sistina non è la chiesa dei poveri non è la chiesa del popolo è la chiesa del papa frequentata da sovrani ambasciatori teologi il programma iconografico è estremamente complesso è estremamente raffinato anche quello michelangelesco è quindi una vera e propria trattato di teologia in pittura non ha nulla della Bibbia dei poveri si potevano riconoscere i soggetti ma tante raffinatezze sottigliezze e simbologie che appunto io vi sto spiegando sono impossibili da conoscere già per l'uomo colto figuriamoci per quello comune quindi questo assolutamente non è questo il caso è il caso in altre situazioni dove le immagini erano utilizzate per spiegare la teologia la storia sacra ma non in questo caso in questo caso è vero che l'origine è quella ma c'è una nuova lettura della pittura dell'affresco che diventa non più una illustrazione ma una vera e propria rappresentazione una affermazione e una specie di esemplificazione della teologia cioè la storia sacra la storia della chiesa e la teologia vengono spiegate attraverso queste pitture e quindi hanno un valore teologico immenso i musei vaticani hanno anche una casa editrice e pubblicano una serie di saggi che è un saggio molto bello proprio sul significato teologico della Cappella Sistina e della appunto dei vari affreschi all'interno di essa questo al centro è l'attraversamento del Mar Rosso attribuito variamente Biagio d'Antonio Cosimo Rosselli probabilmente Biagio d'Antonio dove si vedono dei soldati vestiti in maniera quattrocentesca che erano gli eroi della battaglia di Campomorto e cioè una battaglia che si era tenuta pochi anni prima nel sud del Lazio vicino a Aprilia e quindi anche qui la storia contemporanea viene aggiunta e vi è la presenza di molti contemporanei negli affreschi ovviamente io ve ne parlo di alcuni perché altrimenti faremo faremo l'alba e proseguiamo andiamo a vedere appunto il discorso della montagna che si trova dalla parte opposta nella parte degli elementi di delle pitture diciamo che riguardano che riguardano appunto Cristo e che appunto sono hanno sulla destra in basso la guarigione del Lebroso con appunto questo è sempre un affresco attribuito a Cosimo Rosselli e poi troviamo le tentazioni di Cristo di questo è realizzato appunto da Botticelli e sullo sfondo un'altra citazione di Roma sia nel paesaggio ma anche nel nel frontone di questo edificio che è appunto il collegio dei Sassoni cioè la la ve lo faccio vedere su Google Maps il collegio Saksorum che si trova appunto accanto alla basile di San Pietro ancora oggi sul lungo Tevere anche se è stato restaurato durante il fascismo perché chiaramente gran parte di questa di queste elementi sono stati restaurati aspettate zoom un attimo fuori in pratica proprio qui all'altezza del lungo Tevere si trova questo edificio che appunto era ben visibile e nel Google Maps purtroppo c'è il restauro però la facciata è esattamente se la riuscite a vedere è esattamente quella di questo edificio rinascimentale che esisteva già nel Medioevo e che era lo stutello diciamo l'albergo dove venivano ospitati i pellegrini del Regno Unito i pellegrini sassoni procedendo troviamo quindi poi le tentazioni di Cristo dove Cristo appunto viene tentato e arriviamo sempre negli episodi di Cristo all'ultimo che è l'ultima cena dal lato ritorniamo qui dal lato diciamo destro troviamo l'ultima cena prima e poi troviamo la consegna delle chiavi che è appunto il penultimo di Perugino dalla parte opposta gli ultimi episodi della vita di Mosè e adesso questi li vediamo li vediamo appunto in dettaglio intanto nella ok nella nell'ultima cena vedete che vi sono tre finestre con tre scene che ricordano appunto gli episodi diciamo immediatamente successivi all'ultima cena quindi con la cattura di Cristo e poi la prospettiva molto interessante che appunto ci ricorda ci ricorda lo stemma della roba del centro adesso vi faccio vedere il dettaglio chiaramente di scivoli tutti da un lato tranne Giuda che invece da questa parte Giuda vedete che ha un diavoletto che gli sta appollaiato sulla schiena e che quindi lo spinge al male e Cristo appunto con l'eucaristia il momento centrale chiaramente con la coppa del Graal davanti quindi anche qui riferimenti molto importanti e vedete questo è il dettaglio della cattura di Cristo che è una dei tre dei quadri sullo sfondo e in alto con questa prospettiva molto spinta lo stemma della rovere con le chiavi ancora quindi ancora la celebrazione del pontificato sono dei quadri all'interno sono delle specie di quadri all'interno dell'affresco e immediatamente precedente vi è forse quella che è la scena più significativa dove Perugino indubbiamente dà il meglio di sé e cioè la consegna delle chiavi la tradizio legis cioè il momento in cui viene istituito il sacerdozio e viene fondata la chiesa se voi girate nei musei vaticani in Abbasia di San Piero trovate le chiavi incrociate con la tiara papale dappertutto e questi sono appunto un chiaro simbolo delle delle della appunto importanza del papato che è appunto l'elemento centrale per il cattolico all'infuori della chiesa all'infuori dei sacramenti non c'è salvezza la chiesa è l'unica via verso la salvezza e quindi questo viene ribadito nella nella in questo affresco che troviamo appunto Perugino e tra l'altro si firma perché nel Bavolo il vestito di Cristo mette il suo nome e sullo sfondo c'è questa bellissima architettura poligonale proprio una sorta di manifesto del rinascimento la prospettiva del pavimento queste figure che appunto altri episodi della vita di Cristo sullo sfondo è veramente un capolavoro e i discepoli uno in dialogo con l'altro in una scena simile a quella che proprio negli stessi anni o meglio qualche anno dopo dipingerà verso intorno al 1490 dipingerà Leonardo da Vinci quindi anche se Leonardo da Vinci dipinge l'ultima scena il concetto l'idea di questo dialogo fra le figure fra i vari i vari i vari personaggi è presente ed è un'idea quattrocentesca vi sono poi sulla destra altri personaggi che non sono discepoli in particolare questo scuro è probabilmente vicino Orsini o forse Perugino stesso e poi troviamo Ferrante d'Aragona che era stato alleato del Papa e poi in basso a destra i costruttori della Cappella Sistina quindi in particolare Baccio Pontelli sulla sinistra l'autoritratto invece di Perugino che appunto era giovane Perugino era coetaneo di Leonardo più o meno è nato intorno alla metà del 400 non si conosceranno i nasciti a forse il 46 52 52 è lo stesso anno di nascita di Leonardo e poi morirà nel 23 nel 1523 poco dopo il suo allievo Raffaello che muore giovanissimo nella parete opposta troviamo invece la punizione di Datan Abilon e Core di Botticelli quindi troviamo affrontati i due più grandi maestri che lavorano in questo contesto vediamo il dettaglio perché ne vale la pena perché troviamo sullo sfondo l'arco di Costantino che Botticelli venendo da Firenze l'ha studiato e conosceva e che appunto venendo a Roma per lui è proprio un immergersi nella cultura antica le rovine di Roma erano ancora ben visibili molte anche più di oggi tra cui per esempio sulla destra questo portico del Settizodio che si trova ai piedi del Palatino che poi verrà smontato alla fine del Cinquecento ma che ancora esisteva appunto fino al rinascimento e la scena è quella di Mosè che vedete appunto con questo mantello verde che punisce Datan, Abilon e Core che avevano disobbedito e appunto al suo al suo alla sua leadership diciamo e avevano addirittura provato a prenderlo a sassate a lapidarlo e vengono rappresentati qui i due fratelli Mosè ed Aronne sullo sfondo Aronne ha proprio l'altiana papale cioè è vestito da Papa ed è uguale in tutto e per tutto ai tratti somatici di Mosè e vagamente assomigliano anche entrambi al Papa assomigliano molto a Sisto Quarto e vi è un messaggio molto chiaro affinché non vi siano dubbi sul significato di questo affresco e appunto ripeto un affresco che serviva ai teologi ai capi di Stato a coloro che venivano invitati a queste cerimonie in Cappella Sistina non certo al popolo che non era ammesso in Sistina Nemo Sibi Assumat Onorem Nisi Vocatus Adeo Tamquam Aaron nessuno si assuma tanto onore cioè quello del sacerdozio se non chiamato da Dio come lo fu Aronne e quindi Aronne che appunto fu il primo sacerdote dell'ebraismo venne appunto a acquisire questa sua autorità perché gli viene da Dio ed è questa una risposta ai tanti elementi diciamo scusate sbagliato ai tanti elementi diciamo precedenti o comunque immediati al protestantesimo che da lì a pochi anni sfocerà nell'euteranesimo qui vedete sulla destra appunto il dettaglio dei due fratelli che sono rappresentati come gemelli anche se poi storicamente non lo erano sempre l'abbondanza di oro e uno punisce con la stecca e l'altro invece con l'incenziere quindi sono i due poteri il potere spirituale e il potere temporale che sono volutamente rappresentati dalla persona che di fatto è la stessa persona perché sono identici nei tratti somatici perché sono nella persona si incarnano nella persona del papa il papa arroga a sé non solo il potere spirituale ma anche quello politico il potere temporale e sullo sfondo accanto all'arco di Costantino dell'arco dello sfondo dell'affresco ci sono queste navi di cui una reca la bandiera di Firenze perché rappresenta proprio i fiorentini arrivati in massa considerate decine di artisti con le loro maestranze appunto con tutte le loro cose che arrivano a Roma per portare il rinascimento fiorentino a Roma e questo segna proprio un passaggio perché poi in effetti gli artisti più importanti del rinascimento con la cacciata dei medici da Firenze due anni dopo la morte di Lorenzo il Magnifico Lorenzo muore nel 94 nel 96 vengono cacciati i medici c'è la Repubblica di Savonarola nel 98 viene anche ucciso Savonarola e comunque i medici faticheranno poi a rientrare rientreranno dopo e sarà soltanto poi negli anni 30 al 500 che verrà poi ristabilito di fatto il controllo sulla città grazie anche al fatto che poi i numerosi pontefici all'inizio del 500 divengono medici i medici capiscono che se vogliono conservare la signoria devono controllare il papato che è la più grande forza politica che agisce nell'Italia che è agito per gran parte della storia d'Italia poi qui si potrebbe fare un'altra discussione ne parleremo poi l'anno prossimo o invece di fare una una visita sempre gratuita su questi aspetti e l'ultimo appunto è l'affresco di Luca Signorelli con la morte appunto al testamento di di Mosè che lo vedete appunto con i raggi di luce e con questi personaggi vestiti anche qui colori brillanti molti sono contemporanei questo affresco appunto della vita e dei personaggi del 400 ma veniamo e quindi questi lavori si concludono negli anni 80 dei primi anni 80 del 400 Botticelli che avrebbe dovuto terminare in realtà subisce un lutto muore il padre credo nell'81 e quindi ritorna a Firenze e poi da lì diciamo altri impegni vuole lavorare per i medici non vuole più tornare a Roma forse a Roma non gli piace non gli piace la competizione con gli altri artisti e comunque rimane diciamo a Firenze non tornerà più a Roma e sarà soltanto saranno poi gli altri artisti a completare questo lavoro ecco perché poi vi sono altri artisti più giovani come Signorelli sarà poi oltre vent'anni dopo Papa Giulio II della Rovere quindi il nipote che abbiamo visto prima nell'affresco di Sisto IV a volere Michelangelo di nuovo a Roma non per la Cappella Sistina ma per la sua tomba Giulio II lo saprete nel 1506 comincia a far demolire l'antica Basile di San Pietro per ricostruire una nuova più grande vuole far costruire una cupola come quella del Panteon sulla tomba di Pietro e sopra questa in un angolo mettere la propria che deve essere una piramide gigantesca per cui fa scolpire numerose statue da Michelangelo che però non viene poi pagato e quindi Michelangelo dopo qualche mese se ne va ne nasce una questione che dura circa quasi due anni finché poi Michelangelo si convince a tornare a quel punto il Mosè è stato fatto ma non gli era stato saldato e rimane poi a Michelangelo finché poi 40 anni dopo Michelangelo non completerà la tomba nella Basilica di San Pietro in vincoli che si trova vicino al Colosseo di cui poi un altro cardinale della Rovere era il cardinale stesso era stato Giulio II prima di diventare Papa era stato cardinale di quella chiesa e poi successivamente anche altri suoi nipoti per cui c'era un legame e viene sepolto lì la Basilica di San Pietro era in costruzione per cui non era possibile Michelangelo si riferirà a questa questione come la tragedia della sepoltura perché fu un lavoro iniziato non pagato finito e pagato male dopo 40 anni quindi veramente un disastro so che magari parlare di soldi per gli artisti con un genio come Michelangelo non è adeguato però Michelangelo si faceva pagare anche bene tra l'altro morirà ricchissimo lascia un patrimonio di liquidamente 10 milioni di euro di oggi non aveva diciamo erediretti se non il nipote si chiamava Leonardo Bonarroti che sarà quello che poi porterà il cadavere di Michelangelo da Roma dove era stato sepolto inizialmente a Firenze dove si trova oggi a Santa Croce il trasporto avvene d'inverno perché Michelangelo ha morto a febbraio e questo è il progetto che Michelangelo ha fatto per la tomba di Giulio II addirittura 40 sculture dovevano essere fatte va a Carrara va a prendere il marmo se lo fa portare a Roma comincia a lavorarlo il Papa non solo non lo paga si rifiuta di dargli udienza quindi Michelangelo dopo una settimana che tutti i giorni si è arrecato la loro stabilità in Vaticano per essere ricevuto dal Papa il Papa non lo riceve prendersene a Firenze sarà soltanto grazie alla diplomazia e all'insistenza anche attraverso diciamo pressioni politiche e militari che Michelangelo si comincia a tornare va a chiedere scusa al Papa il Papa chiaramente lo perdona perché apprezza e conosce il suo talento e appunto si decide di realizzare l'affresco l'affresco della volta come vi ho detto la volta aveva questo cielo stellato ma Michelangelo ha ben altri progetti il Papa gli chiede inizialmente di fare i discepoli i dodici apostoli ma Michelangelo dice no voglio fare un progetto più complesso facciamo la creazione perché appunto nella volta nel cielo vi è l'inizio quindi non c'è la fine perché noi abbiamo avuto nella parte mediana appunto Mosè e Cristo e beh come inizia tutto inizia appunto con la creazione poi abbiamo l'elemento di collegamento appunto dei pontefici della Chiesa degli antenati di Cristo e poi anni dopo verrà fatta appunto il giudizio il giudizio universale ora noi abbiamo la possibilità di ammirare gli affreschi nel loro splendore come vi ho detto prima grazie restauri ci soffermeremo su alcuni perché vi sono nove riquadri nella volta poi vi sono cinque Sibille e sette profeti queste figure giganti agli angoli il profeta Daniele che abbiamo visto prima e poi vi sono ai lati appunto queste vele con altri episodi biblici dell'Antico Testamento e ancora gli antenati di Cristo che sono in tutto quasi una quarantina che sono appollaiati in queste lunette sopra le finestre un programma estremamente complesso che nasconde tanti segreti e tanti interrogativi intanto bisogna capire come viene fatto l'affresco perché a differenza della pittura a secco l'affresco avviene sull'intonaco che ha diversi strati c'è il muro che viene chiaramente limato poi viene messo un primo supporto che è chiamato arriccio che è abbastanza grossolano e poi viene dato un intonaco più sottile un intonanchino e successivamente viene su questo dato appunto il colore che però penetra per alcuni millimetri nello strato di intonaco creando proprio quell'effetto per cui anche se l'affresco viene graffiato si danneggia il colore rimane ecco perché dopo secoli sono ancora ben conservati e brillanti nonostante i vari danni perché sostanzialmente il colore non è solamente superficiale da cui si staccherebbe uno per esempio dei problemi dell'ultima cena di Leonardo è che Leonardo che era un creativo un inventivo ma non aveva l'idea di produrre sistematicamente opere voleva sempre sperimentare non realizza un affresco è una pittura secco e quindi già dopo pochi mesi comincia a dare problemi di muffa problemi di sbiadimento per cui è molto danneggiato in compenso la Cappella Sistina ha invece un'ottima tenuta ma vi è un problema qui vedete in questo disegno di affresco vedete in basso vi sono appunto gli aiuti che preparano il muro che deve essere preparato la mattina stessa in cui si deve dipingere cioè la prima parte viene data qualche giorno prima si fa asciugare e poi su quello si mette l'intonaco fresco che deve essere fresco per cui d'inverno si può dipingere un po' più lentamente ma d'estate bisogna andare abbastanza veloci perché chiaramente si asciuga molto prima chiaramente siamo nel 400 all'inizio del 500 non c'erano sistemi artificiali di condizionamento oggi c'è l'area condizionata per la Sistina anche per proteggerla e il primo problema che si pone Michelangelo è quello di come arrivare là sopra sono 20 metri fare un'impalcatura ci vorrebbero settimane costerebbe moltissimi soldi insomma il Papa va anche un po' al risparmio perché lo stesso Papa è impegnato nella ricostruzione della Basile di San Pietro in altre opere pubbliche nella guerra contro i francesi insomma vi sono numerosi elementi sta facendo fare le stanze a Raffaello insomma ci sono tante spese e per arrivare appunto fino in cima alla volta Michelangelo deve utilizzare un'impalcatura che verrà ricavata in questo modo dalle poggiata non so se lo vedete bene non sul pavimento ma diciamo sulle buche pontaie ora la prima impalcatura gliel'aveva fatta Donato Bramante che era l'architetto che stava realizzando che aveva realizzato il progetto della nuova Basile di San Pietro che la stava costruendo che sponsorizzava Raffaello aveva presentato lui Raffaello al Papa per fargli fare le stanze di Raffaello e quando Giulio II aveva visto cosa Raffaello era capace di fare aveva licenziato tutti gli altri pittori e quindi Lorenzo Lotto Signorelli che stavano già lavorando nelle stanze lo stesso Perugino e aveva fatto fare tutto a Raffaello e ai suoi allievi quindi diciamo una grande prova di stima Raffaello aveva solo 25 anni quando arriva a Roma Michelangelo era già più grande aveva circa 10 anni più di Raffaello e Bramante realizza l'impalcatura come con delle corde piantate nel soffitto quando Michelangelo sale a vedere l'impalcatura si arrabbia moltissimo va dal Papa e dice Bramante è un cretino per come faccio io a dipingere ci sono 100 buchi di corde nel soffitto che si ancoravano sulle travature dietro la volta la volta chiaramente non è solida la volta ha sopra come abbiamo visto nello spaccato prima delle capriate quindi delle sono quelle forme triangolari in legno che sosteggono il tetto quindi nel tercapedine e poi c'è la volta sotto questo chiaramente non andava bene e per cui il Papa non vuole sentire storie tra l'altro Michelangelo accusa Bramante di essere un ladro di rubare di chiedere di fare la cresta addirittura sui materiali cosa anche probabile perché gli artisti lo facevano all'epoca io adesso questo non lo so non so se c'è uno studio però so che Michelangelo lo accusa quindi il Papa non vuole polemiche Bramante era più grande di Michelangelo era anche molto stimato ed è anche uno dei più grandi architetti del Rinascimento fra l'altro decenni dopo quando sarà Michelangelo a diventare l'architetto della Basilica di San Pietro riconoscerà che tra tutti gli artisti che avevano lavorato prima di lui Bramante era sicuramente il migliore quando si trattava di arte le questioni personali venivano messi da parte comunque tira giù le corde e le dà via e realizza questo in palcatura questa è una ricostruzione digitale una foto digitale utilizzando le buche pontaie non so se avete presente quando si vedono i muri in mattoni antichi quelli romani ma soprattutto quelli medievali ci sono dei fori rettangolari dove di solito si mettono i piccioni ecco quelli non sono stati costruiti per i piccioni anche se magari i piccioni possono pensare così qualcuno che gli dà anche da mangiare sono stati costruiti perché quando si faceva il muro per evitare di costruire un'impalcatura per intero si mettevano delle travi all'interno di questi fori regolari che appunto si mantenevano sul muro stesso per cui non c'era bisogno di costruire un'impalcatura intera bastavano queste palanche messe anche a mezz'aria in queste travi per restaurare e queste si trovano in molta architettura del 300 del 400 del 500 queste erano ancora presenti nella cappella Sistina e vengono utilizzate queste buche quindi viene fatta questa impalcatura che come vedete ha appunto a seconda la volta impalcatura che poi appunto in questo caso la vedete questo è un disegno di artista un pochino meno efficiente consentì appunto a Michelangelo di arrivare fino in cima anche se Michelangelo e qui lo vedete in questa immagine si lamenterà moltissimo della fatica per ben quattro anni dal 1508 al 1512 di dover stare col naso all'insù con la testa all'insù a dipingere tutto il giorno questo è un sonetto che lui scrive dove appunto questa è proprio la sua calligrafia chiaramente perfetta che guarda appunto a questa fatica e questo colore che gli cade e gli finge la barba e questo schizzo sulla destra è proprio il disegno di lui che dipinge le figure quindi immaginatelo che dipinge questa è la figura di Giona che è il profeta che sta in cima sopra al giudizio finale e appunto inizia così il lavoro della volta la volta in realtà la comincia dal fondo per cui se andiamo a vedere le figure più sul fondo anzi saliamo scusate se giro tanto ma ecco saliamo qui adesso risaliamo su perché da qui si vede meglio pensate che fino al penso all'inizio dell'ottocento i visitatori potevano chiedere di salire su questo ballatoio per vedere gli affreschi da vicino tra l'altro ci sono una serie qui non si vedono però in alcune di queste finestre negli sguinci non qui lo faccio vedere dopo ci sono anche dei graffiti inizia da qui dal fondo dove ci sono gli episodi di Mosè e poi appunto la tentazione di Adam e Deva dove le figure sono molto più piccole perché la impalcatura viene prima fatta in una metà e poi spostata nell'altra metà ritorniamo alla presentazione perché appunto vi è Cristo in questo pigiama scusate Dio padre in questo pigiama azzurro che crea appunto separa la luce dalla tenebra crea appunto gli animali e poi vi è appunto la creazione dei pianeti dove vedete appunto Dio in pigiama e tra l'altro Dio ritratto di terga quindi c'è il sedere di Dio una cosa inaudita Michelangelo addirittura si faceva anche beffa di questa cosa a quanto pare non che non fosse credente era profondamente credente anzi apparteneva a non a definire una setta ma un movimento spirituale detto appunto gli spirituali che si ispiravano al teologo spagnolo Juan de Valdez Vittoria Colonna che era un'amica di la nobildonna romana molto colta e anche amica di Michelangelo appunto si ispirava in qualche modo anche lei a questo a questi insegnamenti spirituali qual è il concetto di fondo di Juan de Valdez è un concetto che poi verrà ripreso da Kant addirittura nella filosofia illuminista e cioè che la fede e adesso non voglio fare catechismo non la prendete in maniera catechistica però inevitabile parlando appunto di questi temi chi è ispirato dalla fede chi crede non ha bisogno di tanta dottrina della teologia di tanti tecnicismi o di di troppi insegnamenti della chiesa ma basta l'ispirazione divina alla persona che devota e giustamente ispirata conosce la verità per intuizione che è un concetto un po' pericoloso perché chiaramente se uno poi può portare anche all'estremismo se uno è convinto di un'idea ed è convinto che non serva un'altra giustificazione può essere pericoloso ma è un concetto molto bello che lo stesso concetto poi sarà ripreso da molto del pensiero artistico dell'Ottocento del Novecento per si pensano a Benedetto Croce l'intuizione poetica è qualcosa che hai o non hai il talento artistico o ce l'hai o non ce l'hai l'oltre lo puoi far venire poi la bravura quella che chiaramente viene con l'applicazione e con lo studio in questo caso quindi c'è un intento forse polemico verso la struttura della chiesa quindi c'è c'è tutto un filone di critica che vuole vedere un Michelangelo addirittura nemico della chiesa non è così però chiaramente vi è un dialogo e un conflitto con una chiesa che innanzitutto è in conflitto con se stessa è una chiesa che appunto in quegli anni vede il luteranesimo proprio mentre Michelangelo sta dipingendo questi affreschi Martino Lutero pubblica le sue tesi e comincia lo scisma del luteranesimo nel 1510 Lutero a Roma l'anno dopo pubblica le sue tesi alla cattedrale di Winterberg quindi comincia il protestantesimo e tutte le grane per la chiesa cattolica andiamo avanti vediamo il capolavoro assoluto che è quello della creazione di Adamo dove c'è questo Adamo bellissimo nudo così con questo corpo meraviglioso dove chiaramente è nudo e tutti mi chiedono ma perché ha questo pene così piccolo perché perché il sesso nelle statue negli affreschi dei nudi chiaramente viene rappresentato in maniera idealizzata come quello di un bambino in questo caso per evitare di essere per distrarre per rappresentare non viene rappresentato in maniera realistica anche nel nel davide di di Michelangelo c'è la stessa sproporzione perché altrimenti diciamo darebbe in qualche modo cambierebbe il senso è un nudo eroico è il nudo delle statue romane dove la nudità rappresenta appunto l'integrità umana l'uomo senza adornamenti senza diciamo nulla di aggiunta è uomo nudo davanti a Dio che appunto lo crea e quindi questo è il significato e vi è in questa posa bellissima tra l'altro con questo sfondo così elementare anni fa ci fu uno studio dimostrò che questo profilo era il profilo del monte della Verna provincia di Arezzo che è un luogo bellissimo dove San Francesco diceva tre stimate e dove Michelangelo nasce e cresce a caprese Michelangelo anche se poi già da bambino poi rientra a Firenze di cui il padre era originario e vedete che vi è questo queste dire che si sfiorano ma non si toccano anche qui ci sono molte speculazioni questa però è una differenza radicale rispetto anche alla Bibbia perché nella Bibbia se noi leggiamo il Genesi dice che Dio crea questo l'uomo dalla la sua immagine dalla argilla e poi soffia nelle narici ora chiaramente in un affresco un anziano che soffia nelle narici di una appunto di una sua creatura non è che risulterebbe molto bello Michelangelo ne dà un'altra interpretazione perché il respiro il fiato la vita non è il più grande dono che ci ha fatto Dio il più grande dono secondo Michelangelo è quello di averci creati come appunto esseri a sua volta creatori cioè l'immagine di Dio nell'uomo per Michelangelo è rappresentata dal fatto che l'uomo è capace di creare la bellezza così come Dio crea la bellezza non perché ne abbia bisogno e questo è un concetto che lui prende da Platone dal Platone come lo si studiava e lo si concepiva a Firenze ricordo che a Firenze ci sono filosofi come Marzio Ficino Piccolo della Milano a Gemistro Pretone che studiano e praticano il platonismo che era scomparso in Europa e viene riemportato all'inizio del 400 e i medici fondano l'accademia platonica quindi Platone diventa proprio uno studio intenso Michelangelo da adolescente cresce proprio a casa di Lorenzo il Magnifico che quasi lo adotta e la sera a cena si discuteva di questi temi quindi cresce imperneato di questi temi di platonismo e quindi Dio crea diciamo l'universo e l'uomo non perché ne abbia bisogno ma perché si compiace nella sua stessa creazione compiacimento della bellezza e quella soddisfazione che noi proviamo quando facciamo qualcosa di bello non qualcosa che ci serve per un qualche fine utile ma qualcosa che facciamo per la bellezza di farlo può essere un gesto una creazione una torta non lo so certo la torta uno poi se la mangia quindi non rientra in questa categoria ma qualcosa di puramente estetico e quindi in questo Michelangelo si ricollega con il Dio creatore Dio poi ha un'altra caratteristica è supportato da tutti questi angeli apteri questa parolaccia vuol dire che non hanno le ali che è una caratteristica diciamo molto importante sono angeli rappresentati quasi come geni divini sono idealizzati non hanno le ali d'uccello come rappresentavano quasi tutti gli artisti non tutti gli artisti ma assomigliano più a dei geni pagani a delle figure pagane ancora questo è lo studio fatto per il nudo Michelangelo si preoccupa di come gestire i volumi tra l'altro Michelangelo ha un'eccellente conoscenza dell'anatomia umana anche perché aveva studiato sui 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 corpi aveva praticato la 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 studi dell'anatomia considerate che nel quattrocento e poi adesso veniamo alla prossima slide nel quattrocento non era vietato diciamo fare studi anatomici ma era molto difficile perché sostanzialmente c'era un divieto fatto nel medioevo di 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 sagrare i corpi dei 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 defunti che era nato durante le crociate perché sapete i crociati cosa facevano quando morì un crociato in terra santa chiaramente il corpo non solo potevano riportare in Europa quindi che facevano bollivano il cadavere finché le ossa non si staccavano dalla carne prendevano le ossa le asciugavano le mettevano una cassettina e si portavano indietro le ossa una cosa disgustosa per impedire questa pratica il papa il papa emise una bolla credo alla fine del 200 per proibire di dissacrare i corpi dei cadaveri e quindi da allora diviene difficile ottenere anche i cadaveri per la dissezione fino almeno al 600 anche se già a metà 500 viene poi pubblicato un testo di anatomia però proprio alla fine del 400 all'inizio del 500 Michelangelo e Leonardo sono proprio dei pionieri di questo studio e venendo a questo qualche anno fa uno studente di medicina americano perché chiaramente teorie diciamo di questo tipo vengono sempre da quella parte del mondo ha identificato con il dettaglio anche in maniera molto dettagliata di Cristo scusate di Dio avvolto in questo mantello e negli angeli proprio come una sezione del corpo con tanto di cervelletto di varie parti del cervello umano io non ritengo che questo aggiunga nulla in realtà alle all'interpretazione se non quella che viene raccontata adesso non ve lo faccio vedere per brevità in un telefilm recente si chiama Westworld se non l'avete visto guardatelo perché è molto interessante io durante il lockdown ho fatto una scopacciata di questi telefilm dove Anthony Hopkins usa appunto questo affresco dicendo vedete Michelangelo ha nascosto a tutti per secoli la verità in un affresco visibile a tutti lui dice in plain sight era visibile a tutti e cioè che il potere massimo il potere supremo il potere della creazione dal nulla non viene come molti pensano da appunto da un potere fisico ma viene da una conoscenza superiore quindi non dalla forza il potere creativo non è un atto di forza ma è un atto intellettuale e quindi dalla mente ora è una bella interpretazione io non so se è questo che Michelangelo intendesse perché in quanto artista lui ha proprio questa idea che la realtà corrisponde la realtà fisica corrisponde alla realtà ideale e che anche all'epoca la serie dei sentimenti era variamente ritenuta appartenere a varie fasi del corpo quindi è però una bella suggestione mi è sembrato giusto mettere qui troviamo vi ho fatto vedere il bicolore perché appunto c'è questa alternativa tra il prima e il dopo vedete come il restauro ha cambiato anche l'immagine della Adamo ed Eva che vengono tentati tra l'altro Eva e Adamo hanno questa posizione che è molto ammiccante dove Eva ha letteralmente la testa sul bacino di Adamo anche qui queste sono posizioni che molti trovarono sconvenienti ma che all'inizio del Cinquecento non diventano molto fastidio Michelangelo poi avrà problemi successivamente e poi la cacciata dove da così belli e gaudenti sulla sinistra con questo albero che non a caso è un fico perché con la foglia di fico poi si copriranno diventano poi brutti guardate Eva come si imbruttisce sulla destra e l'angelo appunto che li caccia questa è presa imitata direttamente dall'affresco della Cappella Brancacci fatto appunto affrescata da Masaccio e da Masonino alla Panicale dove troviamo appunto questi i progenitori cacciati dal paradiso terrestre e l'uogo che Michelangelo conosceva bene perché a Firenze aveva studiato ed appunto uno di quei luoghi del Quattrocento Fiorentino che diventano proprio una sorta di manuale per i pittori le intere generazioni di pittori imparano da queste soluzioni artistiche innovative appunto di Masonino da Panicale e poi di Masaccio e appunto le trasferiscono poi alla generazione di future e sulla destra un altro elemento che è un altro dei due elementi che compare nella creazione dei corpi soprattutto degli ignudi come questo sulla destra che è molto molto bello vi sono sulla volta agli angoli una serie di figure di ignudi che sono appunto un omaggio alla creazione sono appunto una cornice che celebra che cosa è la creazione dell'uomo la bellezza appunto umana e e qui troviamo appunto il Laocoonte che è una scultura che Michelangelo vede proprio mentre la si sta scavando perché viene scoperta all'inizio del Cinquecento proprio a Roma vicino a Via dei Serpenti vicino al Colosseo e Via dei Serpenti tra l'altro si chiama così proprio per Via dei Serpenti della Conte la Conte era il gran sacerdote del Tempio di Troia che viene appunto al Tempio di Nettuno che ammonisce i troiani del pericolo del cavallo di Troia gli dice non tremete Timeo Danos e Donaferente temete i Greci quando portano doni c'è un trucco ci sarà il nemico nascosto dentro come dice così arrivano due serpenti e strangolano lui e i figli questa scultura che è una scultura di ambito ellenistico diciamo dell'ultima fase della scultura greca classica dove una sorta molto simile al nostro barocco in cui appunto le figure sono drammatiche in cui si muovono via questo movimento concitato la muscolatura è perfetta ed è questa torsione che troviamo in quasi tutti i busti nella volta quindi diventa proprio un modello una scuola così come anche nelle Sibille questa è meravigliosa che regge appunto i libri Sibillini e vi consiglio se avete tempo di passare un po' di tempo appunto ad esplorare la volta perché ha una bellezza unica io adesso non ho il tempo chiaramente di poter vedere tutti i vari simboli ma anche per esempio gli antenati di Cristo sono proprio una galleria di queste figure in queste vele che rappresentano proprio queste questa varia umanità che Michelangelo rappresenta così bene riscendiamo perché così inquadriamo un po' meglio le altre scene adesso se vi sono poi io la chat non la guardo spesso no il braccio le vengo un po' di domande prima sono state divinte appreggio nella tua scena allora questa qui rispondiamo dopo perché buonasera Raffaele perché ho una slide apposita mentre c'è Tommaso ha fatto questa cosa dappente il braccio sotto a Damo no quelli sono appunto gli ignudi questi qui che sta germendo una ghirlanda ghirlanda che tra l'altro ha le ghiande simbolo della rovere quindi questi sono elementi decorativi non hanno diciamo uno scopo se non questo di celebrare il corpo umano vediamo qualche altra domanda poi dopo passiamo avanti come mangiare l'otica di Dio come mangiare eroica sì grazie complimenti del tour grazie va bene poi avete la registrazione io adesso sto per andare verso la parte conclusiva abbiamo sforato un pochino con i tempi ma vi faccio prendere sempre un po' la mano andiamo andiamo avanti le sibille c'è un fattaccio che avviene cioè che Bramante fa entrare assente Michelangelo Raffaello a studiare le sibille che appunto erano così belle e questa non si vede bene questa è una delle sibille che si trova nella chiesa di Santa Maria della Pace dietro Piazza Navona dove Michelangelo affresca questa questa parete e realizza le sibille che sono molto simili a quelle michelangelesche Michelangelo si arrabbia a tal punto che dirà che Raffaello tutto ciò che ha di buono ce l'ha soltanto perché ha appunto copiato da lui da Michelangelo quindi tra i due è un corio a buon sangue ma Raffaello era proprio una spugna voleva imparare dai grandi del suo tempo e per questo che rappresenta uno dei più grandi artisti di sempre forse se mi dovesse chiedere qual è il più grande artista di sempre personalmente io sono molto legato a Raffaello per me è Raffaello anche se chiaramente lui perché lui ha la capacità di sintetizzare degli insegnamenti di Leonardo dei veneziani di Sebastiano del Piombo di Lotto di chiaramente del suo maestro di Perugino e soprattutto di Michelangelo creando un nuovo linguaggio negli angoli nelle vele vi sono quattro episodi fra cui questo è il serpette di bronzo e vi sono poi ve li faccio vedere rapidamente giusto per completezza di informazione Esther e Asuero proprio nella parete superiore al giudizio finale di cui adesso parleremo e poi troviamo Davide e Golia sulla parete est e Giuditta e Oloferni quindi due decapitazioni celebri chissà perché poi Michelangelo appunto Michelangelo in realtà non è che non cediva lui indipendentemente erano concordati chiaramente col Papa e veniamo al giudizio universale che è veramente il capolavoro assoluto della pittura occidentale la cosa che maggiormente veramente sconvolse contemporanei fu il fatto che Michelangelo aveva dipinto in soli sei anni sei anni e mezzo meno di sette anni oltre trecento figure alcuni addirittura ne contano cinquecento comunque sono circa trecento tra cui questo Cristo giudice al centro che non è il Cristo magro e maciato che noi siamo abituati a vedere sui crocifissi nelle chiese negli affreschi ma è proprio veramente una figura colossale che deve intimorire circondata appunto da le anime in attesa di giudizio le anime benate e poi sullo sfondo troviamo la risoluzione della carne sulla sinistra e i dannati io ho una foto ad alta risoluzione anzi intanto prima di abbandonare vi faccio vedere il dettaglio della volta in questa foto molto bella si vede questa carrellata completa con gli ignudi e si vedono appunto il progredire la creazione di Adamo la creazione di Eva in quello piccolo la cacciata e poi gli ultimi tre sono gli episodi appunto di Noè è molto bella questa vista così insieme come se si stesse sdraiati ecco una cosa che mi piacerebbe fare prima di morire sarebbe quella la sera da solo di stare passati sdraiati un paio d'ore a contemplare la volta la Sistina magari prima di andare in pensione è possibile visitare la Sistina da soli c'è una modalità anche se adesso è chiusa ma in questi giorni ci saranno pochissime persone quindi se avete occasione vi consiglio di andare al centro appunto il Cristo Giudice con la Vergine accanto e Cristo ha questa figura mastodontica e tra l'altro si nota una cosa vediamo se qualcuno qual è la caratteristica che più spicca del Cristo oltre appunto a questa dimensione manca una cosa se guardate il volto del Cristo vediamo chi vuole scriverlo in chat o chi vuole scriverlo su Facebook io Facebook adesso non lo vedo ma immagino che la barba bravissimo si è chiuso ma la cappella Sistina riapre se andate sul sito del museo lo dice ma credo che apreva venerdì giovedì venerdì insomma in questi giorni a meno che non esce un atto decreto però fra l'altro vi faccio un appello e questo lo faccio veramente in maniera disinteressata io ho anche acquistato dei volumi dal se andate sul sito dei musei vaticani vatican.va e io appunto non prendo nessun non ho soldi dal museo anzi ho anche dovuto pagare quest'anno anche l'abbonamento e ho acquistato dei libri i musei si trovano in una difficoltà enorme perché senza visitatori i milioni di euro che costa mantenere il museo all'anno non sono arrivati e quindi non hanno grandi risorse per cui se volete fare un regalo e volete andare sul sito dei musei vaticani nel gift shop trovate regali volumi libri saggi ce ne sono moltissimi c'è quello di Colalucci molto bello ci sono anche delle offerte vedete ci sono delle promozioni fatelo perché veramente anziché comprare da Amazon o comprare o comprare da un altro di questi che si sono già arricchiti e diventano ancora più ricchi e compratelo da un museo da un bookshop di un museo oppure da un bookshop online appunto di uno dei musei italiani o dei musei vaticani che sono di fatto sono all'interno anche se appartengono allo stato vaticano comunque di fatto sono patrimonio all'interno dell'Italia bravissimo perché Cristo non ha la barba Cristo viene rappresentato senza barba almeno fino al VI o VII secolo e poi perché quindi viene rappresentato in maniera poi sotto l'influenza appunto dei bizantini questa poi è una questione abbastanza lunga forse anche per effetto la diffusione della sindone insomma ci sono una serie di spiegazioni questo perché ricorda a Michelangelo proprio una figura quasi di divinità pagana e se noi andiamo a prendere appunto intanto il questo è saltiamo questo è Michelangelo appunto una ricostruzione un po' idealizzata Michelangelo sull'impalcatura che in questo caso invece è un'impalcatura classica e vediamo appunto il dettaglio del Cristo Giudice con la fonte di ispirazione che è un'altra scultura all'interno dei Musei Vaticani l'Apollo del Belvedere che è una copia di età adrianea di un originale greco del V secolo quindi arte greca classica proprio il momento in cui l'arte greca raggiunge un canone di bellezza insuperato e successivamente appunto Michelangelo pone intorno tutta una serie di anime quasi una corona di anime in alto sempre questi angeli apteri i primi di ali che reggono i simboli della passione la croce la corona di spine e la colonna in basso a sinistra da qui comincia la scena con i dannati scusate con le anime che risorgono dai morti quindi vedete questi scheletri che compaiono fra l'altro vi sono anche delle persone di colore questo nel Cinquecento i mori erano il nemico perché chiaramente venivano con le navi turche e quindi c'erano intanto c'è anche la schiavitù c'erano schiavi in tutta Italia in tutta Europa che erano principalmente erano marinai catturati in mare appunto da navi turchi o da navi comunque che provenivano dal Medio Oriente e quindi invece in questo caso Michelangelo è ecumenico quindi vi sono una serie di figure vi sono decine di personaggi riconosciuti secondo alcuni in basso ci sarebbe Savonarola insomma io adesso me ne indico alcuni molti sono dibattuti perché poi non sono certi perché sono anche un po' nascosti vi sono le anime che salgono su per l'attesa del giudizio e vi faccio vedere alcuni dettagli dalla presentazione perché appunto ecco queste vedete le figure dei Mori che vengono tirati su quasi da questo rosario e poi questo è un bellissimo dettaglio che si trova in basso che è appunto la paura anzi la disperazione un concetto fondamentale perché rappresenta il timore che non esiste alla salvezza si trova proprio al centro al centro noi troviamo intanto questi due volumi con l'elenco di coloro che saranno diciamo dannati e quello che saranno beati ovviamente potete immaginare quale dei due è quello dei beati è il libro più piccolo e poi le sette trombe dell'apocalisse sempre con questi angeli così giganteschi e vi sono i demoni che tirano giù i dannati dei demoni parleremo fra un minuto qui vi è questa figura avvolta da un serpente che è lo stesso serpente che 30 anni prima o 25 anni prima Michelangelo ha divinto sulla volta infatti Michelangelo il giudizio universale non lo fa subito dopo la volta dopo la volta lui ritorna a Firenze fa altre cose fa per esempio la biblioteca laurenziana si occupa delle tombe dei medici fa tutta un'altra serie di cose ha anche un po' di problemi proprio con i medici lo vogliono morto a un certo punto e ritornerà a Roma negli anni 30 su invito di un altro pavamedici Clemente VII che è Giovanni de' Medici scusate Giuliano è Giulio di Giuliano de' Medici il quale era il cugino di un altro papa Giovanni de' Medici che a sua volta era il figlio di Lorenzo il Magnifico e cioè quindi questo papa Clemente VII è il nipote di Lorenzo il Magnifico il figlio del fratello assassinato diciamo decenni prima proprio su indicazione del papa quindi vedete come si chiude il cerchio effettivamente la storia della chiesa la storia dei medici sembra un fotoromanzo questo serpente quindi Michelangio viene chiamato da Clemente VII che però muore quando Michelangio arriva a Roma e quindi sarà il successore papa Paolo III che farà realizzare poi l'affresco a Michelangio siamo tra il 1534 e il 1541 Michelangio lavora nella seconda metà degli anni 30 e lavora quasi da sola soltanto un paio di aiuti che gli preparano i colori e gli stendono l'arriccio e vedete che c'è questo morso di questo serpente è il morso del peccato da cui l'uomo non si può liberare lo abbiamo visto sulla volta nella tentazione di Eva e ve lo faccio rivedere un attimo proprio per diciamo completezza di informazione come si dice la vediamo qui in alto dove sta eccolo qua beh l'ho girato però vedete il serpente che poi sta appunto nella parte terminale è a forma femminile perché chiaramente per Michelangio sempre tutto le tentazioni anche perché la parte della chiesa in quel periodo venivano sempre chiaramente dalle donne e vediamo appunto che questa figura rappresenta proprio la disperazione e cioè il fatto che non ci si può liberare dal peccato ed è questo forse il peccato più grande il fatto di non avere fede nella salvezza e questo è rappresentato veramente magistralmente andiamo sopra perché vi sono le anime in attesa di giudizio i vari santi e marti di San Pietro che restituisce le chiavi nel giudizio e poi troviamo San Paolo un po' spaventato perché la spiritura Paolina è un po' radicale rispetto a quella diciamo di altri pensatori altri teologi e poi troviamo San Bartolomeo che riporta la pelle la sua stessa pelle che in realtà è il ritratto nascosto l'autorità nascosto di Michelangelo perché Michelangelo appunto si ritrae in questo modo andiamo avanti e vedete qui la pelle con il ritratto di Michelangelo perché probabilmente o aveva avuto una questione con questo signore che è Pietro Laritino che è la poeta ufficiale del Papa il quale aveva criticato nell'unità degli affreschi e altri aspetti che non aveva molto Michelangelo e quindi il personaggio che regge Michelangelo gli assomiglia molto in realtà lo vedete qui assomiglia molto a Pietro Laritino appunto calvo con la barba lunga oppure secondo un'interpretazione che io trovo anche più corretta Michelangelo in quanto artista per quello che abbiamo visto prima ha un'anima che già deriva da Dio è già pura non sarà la sua anima essere giudicata ma il suo corpo con il quale appunto peccava Michelangelo è probabilmente appunto quasi certamente appunto era omosessuale viveva questa sua omosessualità forse in maniera molto combattuta anche se poi ha appunto un compagno Tommaso dei Cavalieri che gli è vicino fino alla morte questa amicizia che inizia quando Michelangelo arriva a Roma a metà degli anni 30 del 500 che poi si potrà finché Michelangelo 88enne morirà quindi Tommaso dei Cavalieri era la ventenne quando conosce Michelangelo che era già maturo e si crea questa relazione quei bellissimi disegni dei ritratti di Sibille ritratti femminili meravigliosi erano dei regali che appunto Michelangelo faceva a questo suo amico amante poi questo nel dettaglio adesso non mi voglio ad entrare in queste questioni perché sono complesse però diciamo è diciamo abbastanza comune questa persona fra l'altro c'è una lettera molto interessante dove Michelangelo scrive al nipote Leonardo dicendogli ma sai le donne sono un fastidio ma ti consiglio di sposarti perché avrai bisogno di figli avrai bisogno di qualcuno che ti accudisce io non mi sarò non mi sono mai sposato perché non volevo distrazione rispetto all'arte ma chiaramente non era quello il motivo e vedete come molte di queste figure hanno queste lenzuoline che coprono le pudenda questi sono stati aggiunti successivamente come poi vedremo sulla testa troviamo queste figure che si baciano si abbracciano anche figure riconoscibili forse qui troviamo appunto con questo turbante una appunto delle figure vicine forse qui sulla sinistra Vittoria Colonna figure che hanno dei tratti che sono proprio simili a contemporanei e poi troviamo San Biagio e Santa Caterina che vennero completamente ridipinte perché ritenute oscene e San Sebastiano in ginocchio vi faccio vedere con la presentazione qualche altro dettaglio ecco per esempio il San Sebastiano molto bello molto statuario e troviamo scusate sono gli altri dettagli non ce li ho qui la barca dei dannati la barca dei dannati che è appunto questa si vede meglio in quest'altra proprio sotto questi angeli che combattono con delle anime dannate che rappresentano i sette peccati capitali vediamo alcuni ce n'è uno tirato giù da un sacchetto di monete e dalle chiavi quindi la roba direbbe verga e quindi la valizia sulla destra ce n'è uno che ha al centro qui un pugno in bocca quindi la gola e poi un altro tirato giù per i testicoli che è appunto la lussuria e in basso la barca dei dannati che è una citazione di Dante Alighieri appunto di cui l'anno prossimo ricorreranno i settecento anni dalla scomparsa e che appunto rappresenta un modello per molti artisti nel rinascimento non solo per per Michelangelo e vedete appunto il demonio Caronte che batte i dannati e in basso a destra Minosse e questo è Caronte che è questa figura appunto con gli occhi di braccia e questo sarebbe credo uno degli aragonesi o comunque era un personaggio anche qui riconosciuto come un personaggio dell'inizio del Cinquecento e poi troviamo questo che è invece Minosse come descritto appunto da Dante con l'orecchia d'asino del serpente intorno al corpo il quale giudicava le anime dei dannati all'ingresso degli inferi e costui ha il ritratto i tratti somatici del maestro dei cerimoni del Papa Biagio da Cesena il quale aveva osato criticare il lavoro di Michelangelo prima che venisse finito davanti al Papa per cui finisce ad insulti e Michelangelo si vendicherà in questo modo quindi il primo novembre 1541 quando la cappella Sestina viene finalmente dopo molti anni aperta nella solana celebrazione sull'altare il maestro dei cerimoni è ben visibile proprio sopra la porta ed è esposto appunto all'Udibrio e appunto viene messo alla gogna da parte di tutti se non che Michelangelo avrà dei problemi perché alcuni anni dopo già da subito viene criticato i nudi questo è una copia che si trova al museo di Capodimonte di Marcello Venustica un manierista che descrive tutte queste figure nude quindi è una copia del giudizio universale come appariva appena realizzato e vedete che appunto i santi sono tutti nudi perché appunto si risorge senza i vestiti ci sono un po' di abbigliamento ma in gran parte sono appunto questa nudità eroica e poi vedete questa è un'altra lontagliore ma vedete San Sebastiano nudo a Santa Caterina con San Biagio dietro sembra che stiano addirittura facendo qualcosa questo addirittura sarà ridipinto completamente da chi? Da Daniela Volterra che era un ottimo pittore molto importante del manierismo romano di origine appunto toscane di Volterra quale aveva anche lavorato con Michelangelo e che sarà chiamato a coprire gli affreschi di Michelangelo quando Michelangelo non è ancora in vita e non sarà il primo perché poi ci saranno successive coperture chiaramente oggi Daniela Volterra è conosciuto come il braghettone appunto per aver messo le braghe agli affreschi di Michelangelo e c'è qui una lezione da imparare che se anche tu vuoi lasciare il segno nella storia dell'arte non ti metti a coprire gli affreschi degli altri fai il lavoro tuo e questo in generale penso che nella vita sia un ottimo insegnamento di non mettere le mani nel lavoro degli altri di concentrarsi sul proprio lavoro perché poi mettere le mani nel lavoro degli altri si ritorce contro e questo secondo me è un messaggio che voglio dare anche in maniera trasversale è un messaggio criptato quindi non è per il grande problema è legato ad alcune persone e vi faccio vedere delle ultime immagini delle piccole curiosità poi apriamo le domande ci sono i più grandi artisti del rinascimento tranne appunto Leonardo in Cappella Sistina e tranne Raffaello ma in realtà Raffaello c'era perché questi arazzi che oggi si trovano nella Pinacoteca sempre dentro del Museo Vaticano vengono realizzati su disegni di Raffaello e sono appunto gli atti degli apostoli quindi a completare questo ciclo che è completo della storia della Chiesa la creazione l'ebraismo i profeti le Sibille vi sono gli apostoli i pontefici vi è Cristo vi è chiaramente il giudizio finale e vi sono appunto le vicende della Chiesa del Papato quindi c'è proprio tutto rappresentato attraverso i primi papi quindi non ci sono rappresentazioni di questo tipo ma ci sono appunto i pontefici che rappresentano la storia della Chiesa e quindi vi è un completo racconto di quella che è la storia della salvezza secondo appunto il mondo cattolico e la Cappella Sistina è indissolubbmente legata con l'elezione del pontefice e quindi con tutta una serie di cerimonie che portano l'elezione del pontefice con la famosa fumata bianca e poi ecco questa è una foto ancora degli arazzi tra l'altro in occasione dei 500 anni della morte di Raffaello a febbraio di quest'anno sono stati esposti una settimana proprio prima del lockdown soltanto per una settimana anche in grande successo dei pubbio questa è una bella iniziativa era stato fatto forse dieci anni o dodici anni prima una cosa viene fatta molto raramente andrebbe fatta secondo me molto più spesso perché è così che andrebbe vista secondo me la Cappella Sistina andrebbe vista anche con più tempo questa è una curiosità perché durante i restauri poi degli quattrocentisti fatti negli anni 2000 è stata restaurata anche la cantoria dove appunto ci sono i cantori che cantano la messa e quindi questa è una riproduzione digitale all'interno della cantoria e vedete che qui è stato trovato un affresco ascoltate un graffito sugli affreschi di Josquin Depré che è il più grande musicista del quattrocento e dell'inizio del cinquecento era un francese che per due anni fu maestro di cappella della Cappella Sistina che chiaramente mi lasciò il graffito su 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 appunto sulle pareti interne della cappella io ho frequentato una scuola molto antica antiche scuole d'Italia che è anche una cappella del settecento e molti degli studenti anche recenti hanno lasciato graffiti un po' dappertutto quindi questo diciamo mi fa molto pensare mi fa molto ridere mentre proprio per le funzioni della della elezione del pontefice che però non avviene da sempre in cappella Sistina è una cosa soltanto in anni recenti è stato stabilito che sia la cappella Sistina il luogo delle elezioni dei pontefici perché fino al secolo scorso l'elezione avveniva in vari luoghi dove era morto il papa dove voleva riunirsi il collegio dei cardinali ben quattro papi per esempio sono stati eletti nella cappella Paolina al Quirinale quindi poi in gennaio spero di fare una visita sul Quirinale e parleremo anche di questo che è stata costruita con le stesse dimensioni della cappella Sistina proprio per questo per questo motivo questa porta di sinistra quella di testa si entra venendo dai musei quella di sinistra è quella che porta alla sagrestia sono quattro camere fra l'altro se uno conosce qualcuno all'interno dei musei o del Vaticano te la fanno anche vedere dove ci sono appunto i paramenti per le messe e dove durante il conclato vengono preparate tre taglie diverse di abiti per il pontefice perché se come dicono appunto in Vaticano se i cardinali sono ispirati dallo Spirito Santo e conoscono già chi sarà il nuovo pontefice perché sanno per chi votare i sarti no e quindi devono preparare tre taglie diverse perché non lo sapranno questa appunto è la caldaia la stufetta che viene messa per che è temporanea non è presente normalmente che poi c'è un tubo che esce fuori come ignoro verso la piazza per cui per fare la fumata bianca o fumata nera che avveniva con la paglia bagnata o meno adesso avviene con i fumogeni c'è proprio uno stipetto dei fumogeni in sacrezia per motivi pratici quindi questo appunto è uno dei tanti piccoli segreti del Vaticano ora io ho tentato di concentrare appunto così tanta storia in poco tempo lo farò di un'ora ma sono andato un po' fuori tempo spero che che vi sia che vi sia piaciuto prima di passare alle domande vi volevo ricordare appunto che queste visite e quelle future appunto io faccio una visita o due visite al mese completamente gratuite mi fa piacere di farlo utilizzando appunto immagini materiali disponibili gratuitamente online e poi ci sono altre che sono più appunto sempre visite virtuali ma utilizzando Google Maps utilizzando anche altri strumenti dove che sono appunto a pagamento queste le trovate su sul sito che adesso vi faccio vedere se resta ad aprirlo adesso si è bloccato tutto esci Google Google mi fa sempre dannare l'anima e il sito che non c'è sta ah il sito da cui c'è appunto la diretta live in home page appunto trovate il programma delle visite e appunto in occasione del delle feste imminenti abbiamo pensato anche di realizzare del gift card per cui c'è un codice sconto e per chi volesse partecipare alle prossime visite del calendario sulla home page giovedì parlerò appunto dei castelli del Galles quindi andiamo fuori dall'Italia una storia molto affascinante che lega le crociate che lega appunto Edoardo I la conquista del Galles e la Svizzera tutti in un'unica storia i romani Artù quindi parlerò un po' di tutto questo molto affascinante e poi tutta un'altra serie divise su vari temi la il 14 dicembre farò questa visita sulla natività nella storia dell'arte che è appunto gratuita quindi vi potete già registrare online sempre sulla sito di GranTour oppure seguirla sul gruppo Facebook e per le prossime 24 ore per chi vorrà registrarsi a una delle visite a pagamento o acquistare un pacchetto c'è la possibilità di ottenere il 50% di sconto e adesso verrà messo il 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 codice sconto adesso passiamo alle domande Giovanni se ci sono domande da internet da 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 allora vediamo un po' ci sono domande da Facebook eccetera se me le vuoi postare vediamo un po' le domande dove è dovuto lo smorzamento dei colori polvere perché sono gli arazzi con le tende no le tende già c'erano gli arazzi perché erano diciamo un fatto di tenere appunto abbastanza in ordine le pareti cose dovute lo smorzamento di colori diciamo che ci sono due effetti adesso riprendiamo un attimo la presentazione un attimo solo ci sono due questioni sugli arazzi perché anzi facciamo una cosa anche chi vuole Giovanni puoi sbloccare i microfoni se vuoi chi vuole parlare può anche intervenire in audio se puoi farlo tu cortesemente anzi facciamolo qua non so come farlo mi sono perso come si fa Giovanni se lo puoi fare tu per favore dicevamo andiamo verso torniamo alla presentazione gli arazzi sono visibili si trovano in vediamo un attimo nella Pinacoteca Vaticana io adesso non ho le immagini pronte ma ho fatto un video tempo fa l'anno scorso che vedete trovate sul canale internet questo sono io l'anno scorso quando si poteva ancora viaggiare e vedete gli arazzi che sono accanto appunto alle opere di Raffaello sono questi sulla destra qui non si vedete benissimo però sono qui lo scialbamento la perdita del colore è dovuto al fatto appunto la luce la polvere l'aria il tempo e poi c'è un problema degli arazzi che spesso le persone di pulizia in passato spolverandolo si vede che il danno è spesso nella parte dove si si arriva diciamo con lo spolverino quindi molto spesso nella parte più bassa però questi sono stati restaurati anche molto bene ecco questo c'è appunto un breve video vediamo le altre domande e ritorniamo sulla cappella Sistina indietro di volumi ce ne sono molti io vi consiglio di comprare i volumi che sono sul sito dei musei vaticani ce ne sono diversi ce n'è uno che ha tutti i capolavori ce ne sono molti i volumi della cappella Sistina se avete qualche spicciolo in più è stato fatto qualche anno fa questo volume per chi ha un po' di risorse in più che è un peso di non so quanti chili che ha delle riproduzioni a grandezza naturale cioè questi sono gli affreschi fotografati in altissima risoluzione con le dimensioni originali dell'affresco quindi 1 a 1 che è una cosa rarissima il volume o sono 3-4 volume insomma questa pubblicazione è stata messa in vendita alla modica cifra di 12.000 euro ed è acquistabile dai musei vaticani li potete contattare io vi giuro non prendo nulla dai musei anzi devo pure pagare ogni anno l'abbonamento per essere appunto la guida ufficiale ma è veramente un capolavoro per cui per chi può io non posso però per chi può diciamo è veramente vale la pena andiamo avanti grazie mille presto l'inizio poi verrà data la registrazione disponibile per qualche giorno grazie complimenti vediamo se ci sono domande 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 potete insegnarmi un libro copertina rigida ecco questi li trovate appunto sul bookshop c'è anche il museo buonasera signora vuole fare una domanda o è un errore forse è un errore sottodama rappresentando veniamo preparati i disegni da freschi i disegni da freschi veniamo preparati su cartoni quelli di Micangelo non esistono più ma per esempio quelli di Raffaello esistono ancora c'è quello della scuola d'Atene a Milano Brera e ci sono quelli degli arazzi del Vaticano che sono presenti in a Victoria and Albert Museum di Londra io adesso non ho le foto con me e non mi metto a cercarle in diretta però diciamo ci sono vediamo un attimo la chat ho perso Giovanni se ci sono domande da Facebook se me le metti per favore grazie la fresca non è tutto veniva realizzato a mano no veniva fatto con lo spolvero cioè l'affresco veniva preparato su un disegno a ganenza naturale dopodiché ci sono varie tecniche o quella dell'incisione per cui si poggiava sul muro sull'affresco e lo si trasferiva come i trasferelli calcando con un chiodo le righe oppure facendo dei bucherellini lungo le righe e spolverando con della grafite per cui è come il trasferello lo potete fare a casa anche con i trasferelli se avete un muro libero a casa vi potete esercitare io per i bambini noi a casa lo facciamo fare quando non c'è mia moglie ne approfittiamo ancora complimenti complimenti grazie domanda vorrei sapere qualcosa dall'ombelico di Adamo e beh giustamente la rappresentazione diciamo delle figure è una rappresentazione che non tiene conto di diciamo di un realismo se vogliamo scientifico c'è un realismo anatomico fatto nello studio della figura ma questioni sull'ombelico questioni di legate quelle già erano questioni dove ci si poteva mettere in difficoltà fra l'altro le figure per esempio il David di Michelangelo e tutti i David fatti nel rinascimento nessuno di questi è circonciso io ricordo anni fa c'è un periodo che lavoravo per l'Eni facevo la guida per gli ospiti dell'Eni quindi ministri e portavo questo ministro israeliano alla galleria borghese chiusero la galleria borghese io dovetti fare tutto il tour della galleria borghese da solo con i servizi segreti israeliani tra l'altro c'era questo ragazzo che raccontava un sacco di barzellette tutto il tempo dovevo fare per filo e per segno tutto il tour dopodiché quando è arrivato il ministro abbiamo rifatto il tour col ministro che voleva vedere tutti i punti e c'era la polizia italiana il ministro e i servizi diciamo israeliani e ricordo che andiamo a vedere il Caravaggio dove c'è appunto la Madonna dei Palafrinieri dove c'è Gesù Bambino e il ministro dopo io ho tutta questa spiegazione appunto fatta in maniera tale da avere appunto fare un lavoro anche molto formale molto diplomatico il ministro gli fa però non è realistico non è circonciso e lì poi aveva ragione però chiaramente non vengono riportati questi elementi il sito del bookshop andate ve lo faccio vedere adesso ed è quello ufficiale dei musei vaticani così diamo una mano a questa istituzione è vero che il Vaticano intanto compare in scandale eccetera ma i musei vaticani sono un'amministrazione a parte fanno un lavoro egregio nel mantenere i musei attivi tra l'altro la direttrice è per la prima volta nella strada del museo una donna sono veramente cambiati notevolmente questo è il sito ufficiale museovaticani.va e da qui trovate lo store e trovate tutto qui vi vendono di tutto dalle copie alle statue eccetera io compro esclusivamente i libri perché non è metto a comprare statue però se volete potete comprare anche una statua e trovate una serie di pubblicazioni quelle più vendute quelle scientifiche io appunto da poco ho fatto un ordine ve le spediscono oppure quando apriranno i musei la prossima settimana potete anche andarci di persona e appunto vi sono molte pubblicazioni le trovate qui shop museovaticani così facciamo anche un'opera di bene ripeto appunto io non ho nessun tipo di però se cercate sul sito ci sono anche degli sconti è sicuramente il luogo principale dove prendere pubblicazioni poi le trovate anche su altri però piuttosto che dare far guadagnare Amazon in questo periodo sinceramente io anche uso Amazon per i giocattoli però se dovete diciamo far guadagnare qualcuno aiutate appunto i museovaticani perché veramente intanto c'è la possibilità di acquistare dei voucher degli ingressi perché veramente è un'istituzione importante che appartiene a tutti andiamo avanti grazie 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 abbiamo messo la colonna e la colonna la colonna di spine e la croce sono i tre strumenti della passione Cristo viene legato alla colonna la colonna che poi durante le crociate viene trovata anche se non è quella è portata a Roma ci sono più colonne sacre comunque quella ritenuta la colonna di fragilazione è quella che sta a Santa Prassia del Roma e poi ve la farò vedere in una prossima visita anzi quando ne parliamo a gennaio quando parlo di Santa Maria Maggiorni una piccola domanda sì prego prego mi dica una domanda sciocca prego allora come dico sempre non ci sono domande sciocche le domande non sono mai sciocche però le risposte possono essere sciocche no assolutamente no al contrario innanzitutto beh grazie perché è una cosa bellissima ma come mai premesso che ovviamente delle commesse del genere non possono più essere richieste se non altro anche per lo spazio ma come mai nel corso dei secoli si è perso a parte la bellezza delle figure l'emozione ma queste diciamo questi progetti così complessi che hanno all'interno diciamo questi questi simbolismi incredibili come mai anche se le scuole pittoriche sono cambiate nel tempo cioè c'è stata un'evoluzione o un'involuzione che dir si voglia come mai non è più non abbiamo più potuto vederle ecco questo tipo di di progetti questa è una domanda è una domanda da un milione di dollari cioè è una domanda molto complessa per le scuole forse cioè non ci sono più scuole io le posso le tue risposte la risposta diciamo che darebbe l'accademico lo storico dell'arte della persona è che alla fine il diciamo l'arte è il riflesso della società è il riflesso dei tempi è il riflesso di tutta una serie dei meccanismi sociali economici politici io ci tengo molto nelle visite a costo di essere di dilungarmi di poter risultare norioso a qualcuno a spiegare tutti gli aspetti storici e per questo che quando parlo della Cappella Sistina ci tengo a parlare di Lorenzo è magnifico ci tengo a parlare di Firenze ci tengo a parlare di Rinascimento perché se no non si capisce da dove nasce tutto questo e quindi quel tipo di società quel tipo di cultura dà vita a quel tipo di arte ora io il motivo non lo so e dubito che qualcuno abbia la risposta però se uno vuole cercare la risposta è nel fatto di come la società interpreta i propri valori le proprie priorità che cosa produce principalmente la società che cosa noi mettiamo al primo posto e probabilmente oggi le nostre priorità sono molto diverse e lo erano anche nell'Ottocento rispetto a quelle del Quattrocento del Cinquecento quindi questa forse è la domanda e l'interrogazione poi detto questo è chiaro che noi questa arte così bella in realtà era pagata col sangue i sacrifici dalla gran parte della popolazione che viveva in una misera estrema noi oggi viviamo in società che sono ricche che sono società che più o meno si prendono cura di tutti non era così nel Quattrocento o nel Cinquecento e probabilmente uno dei motivi anche questo è che tutta questa rappresentazione di bellezza era anche una sorta di compensazione di una bruttezza enorme della società in cui metà dei bambini non arrivava ai dieci anni di vita quindi la morte in infantile era una cosa comune noi oggi per noi è una tragedia enorme quando sappiamo che avviene qualcuno quando c'è un bambino che sta male ma per i nostri antenati fino all'Ottocento era la norma e così si possono fare tanti esempi quindi io la risposta non ce l'ho però secondo me la si trova lì poi ci sono tanti io ho studiato estetica quindi la filosofia dietro l'arte oltre che appunto la storia dell'arte e ho studiato ho avuto il privilegio di studiare con uno dei più grandi filosofi del Novecento Mario Perniola che è morto l'anno scorso e lui appunto aveva tracciato diverse strade addirittura cinque linee di pensiero che hanno portato appunto all'evoluzione uno dei motivi per cui a questa bellezza appunto che imitava gli antichi si è passato invece a un'arte che molto spesso è brutta molto spesso è volgare molto spesso diciamo tende a a stordire e a stupire piuttosto che a comunicare è perché non c'è più quel rapporto tra la ideologia e il pensiero dominante l'artista che si occupa solo di arte e poi l'impegno sociale Migrangelo e Leonardo non erano artisti impegnati tutt'altro così come lo era Raffaello lavoravano per i potenti e per i ricchi e quindi diciamo questo è una questione anche morale e quindi questi andrebbero poi esplorati non è questa la serie io non ho nemmeno la risposta però diciamo se le interessa questo tema questo diciamo è l'indirizzo diciamo noi però facciamo anche delle cose bellissime ci sono delle cose meravigliose che vengono fatte nella nostra nella nostra società ci sono artisti figurativi che fanno bellissime cose Mitola adesso c'è il figlio di Queen Lorenzo Queen che fa delle cose delle mani che escono dalla luna di Venezia alcuni sono molto bravi e non sono molto diversi tecnicamente da Migrangelo per esempio però lo fanno in maniera diversa magari di questo può essere il tema di una visita tra l'altro abbiamo lanciato lancieremo a breve un sondaggio se volete suggerire dei temi delle visite fatelo perché questo per me è importante dunque è grande sondaggio lo trovate in chat vediamo qualche altra domanda stavo leggendo una posso fare una domanda certo prego buonasera buonasera dato che io sono di Milano e ho visto prima il programma ma è scorso via molto velocemente volevo chiedere se c'era qualche visita in programma riguardante Milano dunque probabilmente l'anno prossimo il Duomo qualcosa diciamo la visita sul Leonardo che è stata fatta molto tempo fa chiaramente si svolge in gran parte a Milano ci ha passato vent'anni a Milano e poi sì adesso faremo quella del Duomo io diciamo siccome adesso le visite le sto facendo io e sto provando a coinvolgere i colleghi le faccio su temi che ci sono più ferrato Milano vengo spesso sono stato a novembre però non la conosco così bene come in altre parti quindi diciamo però Milano chiaramente è ricchissima prego posso darvi un suggerimento certo io ho fatto una visita in presenza poco prima che ci chiudessero è un gioiello a Milano il cimitero monumentale ah certo c'è una quantità di opere d'arte che non se ne ha un'idea va bene quella magari la facciamo a fine pandemia però perché io mi sono sicuramente ha ragione mi sono domandato sempre in questa situazione siccome queste sono un po' di visite gratuite che faccio per il piacere di farle che temi e quali visite possono tirare un po' su il morale in questo periodo quindi sicuramente la bellezza che appena assistina ci sono dei cimiteri monumentali meravigliosi lo stesso cimitero del Verano però appunto altri colleghi fanno delle visite sulle pandemie nella storia io sinceramente voglio dire non è che lo vedo così lo sappiamo cos'è una pandemia anzi noi fortunatamente abbiamo la scienza che ci protegge nel 500 nel 600 come la descrive Manzoni la testa a Milano nel 600 quando il poveraccio straniero mette la mano su una parete e tutti lo attaccano perché pensano che lui è l'untore e quindi la settimana poi neanche ci chiudesse oltanto per non dire l'idea va bene grazie comunque no senza altro se avete suggerimenti mandateli perché sicuramente sono tutti visti in chat trovate poi vi verrà mandato anche via email e poi verrà postato su Facebook insomma tutti i canali possibili e immaginabili altre domande signor Roy buonasera signor Roy è un appassionato ormai mi segue da mesi quel di Torino mi era venuta la battuta che sicuramente mi era venuta la battuta che sicuramente dopo la pandemia il monumentale sarà molto più ricco no no non facciamo queste battute mi era venuta no anzi diciamo speriamo che la situazione migliori perché veramente diciamo una cosa una cosa appunto drammatica ci sono altre domande vediamo un po' grazie 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 c'è qualche sì chiaramente il castello eh sì ce n'è di roba ehm grazie 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 eh qualche altra domanda qualcun altro vuole intervenire eh ci sono domande su Facebook vediamo un po' su Facebook io voglio vorrei chiederle una cosa Mario certo ehm ho perso qualche battuta dire il vero perché ho avuto problemi con internet questa sera ma la la questione dei eh dei drappeggi dei drappi eh alla base eh della 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 non sono su tutto il perimetro perché mi è sembrato di vedere alcune fotografie in cui a livello terra ci siano dei dipinti o degli arassi non non ho ben capito la questione se questi questi drappeggi sono eh sono fatti o per coprire qualcosa che era stato dipinto nel passato no no sono una decorazione sono una un'aggiunta alla decorazione cioè non sono né per coprire né sono un'integrazione aggiunta tra l'altro gli arassi hanno anche lo scopo di mantenere il calore e quindi diciamo fungono anche da isolante rispetto al muro no eh quindi venivano messi abitualmente la maggior parte dei palazzi e dei luoghi diciamo eh di di come posso dire dove vivono re papi nobili avevano arazzi non solo come decorazione ma anche come protettivo eh e sono appunto molto diffusi ce ne sono molte serie eh poi ne parleremo tra l'altro una serie di questi della cappella sistiana esistono tre serie una di queste venne fatta per il re di Francia per cui una di queste si trova in Francia adesso non ricordo tutto esattamente grazie milanese Milano 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 e il link del sondaggio non funziona lo riproviamo eh non funziona il sondaggio ecco perché non funziona adesso ve lo ve lo ve lo ehm non funziona perché credo che non sia pubblicato ancora adesso lo pubblichiamo e non so se ci sono altre domande se qualcun altro vuole intervenire altrimenti io vi eh ringrazio ehm appunto vi ricordo per chi volesse partecipare alle prossime alle prossime visite eh per 24 ore c'è lo sconto del 50% che è uno sconto appunto notevole e altrimenti vi do appuntamento al 14 per la visita di ehm quella sulla sulla sulle ehm sulla natività nella storia dell'arte e dal 2 di ehm dal 2 di ehm di ehm di ehm di dicembre eh farò delle ehm dirette di pochi minuti ogni giorno o quasi un giorno sì e un giorno no per ehm eh diciamo ehm scusate per parlare della dell'avvento e quindi eh parlerò diciamo in qualche modo di questo aspetto vediamo un attimo ehm c'è qualcuno vuole chiedere ah allora Botticelli ha realizzato tre affreschi all'interno della cappella Sistina e cioè sono la ehm le orientazioni di Cristo la la i primi episodi della vita di Mosè e poi l'ultimo è il Mosè da Abiron eh data Abiron e Core e che tentano appunto di 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 attaccare Mosè il sto tentando nel frattempo di pubblicare il 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 sondaggio ci sono altre domande qualcun altro vuole intervenire ok allora io vi auguro una minuti dell'avvento che ho chiesto dove le fai quelle saranno fatte su eh Facebook saranno in diretta su Facebook e su YouTube prego lo comunicate su Facebook o come io li vorrei seguire sì sì no quelle adesso mandiamo un'email e poi se si iscrive al gruppo Facebook oppure se segue il canale YouTube saranno lì live un attimo solo grazie grazie sì quindi in queste mini puntate dell'avvento questo è un esperimento scusate sto salvando e leggerò il Vangelo di Luca alcune pagine non so che sembra una cosa da chiesa però io non ci vado nemmeno più in chiesa quindi non è non è un fatto personale ma leggerò però quella è la fonte alcuni passi Vangelo di Luca e farò vedere a partire appunto dall'annunciazione dall'annuncio della nascita del Battista quindi da una annunciazione prima dell'annunciazione parleremo appunto dell'arte come soprattutto nel 400 nel 500 nel Rinascimento e nell'epoca barocca ha illustrato il fedelmente appunto questi aspetti dell'avvento quindi diciamo una sorta di calendario dell'avvento anziché parlare di cioccolatini o di giocattoli parleremo appunto di arte dunque adesso la pagina per favore ecco l'orario questo ancora non abbiamo deciso probabilmente nel pomeriggio però questo poi vi avvisiamo questo perché siccome è un evento che avviene nei giorni giorni pari dal 2 in poi vorrei appunto evitare che si che si accavallino comunque nel tardo pomeriggio sarà un po' un'estemporanea comunque sono dei video che restano sono soltanto su Facebook e su YouTube e resteranno online quindi poi li potete tranquillamente guardare dunque la pagina dell'articolo del sondaggio è live l'avevamo tenuto diciamo pubblicato ma adesso funziona vi ringrazio mi raccomando appunto dateci un feedback perché appunto è importante conoscere anche le opinioni e vi ringrazio vi vi do appuntamento appunto alla prossima visita rimetto il vediamo un po' c'è un'altra domanda poche domande perché figure maschili hanno busto e vita molto larghi beh questo è un fatto legato proprio al diciamo lo stile di Michelangelo il quale ama molto queste figure grosse nerborute molto mascoline tra l'altro lui non faceva mistero di amare il corpo maschile in ogni aspetto quindi questo è anche un aspetto che molti biografi contemporanei il condivi Pasari non ricordo ma comunque soprattutto il condivi ed altri riportano il fatto che Michelangelo facesse mistero di questo tra l'altro anche fra le sue risposte spesso molto piccate chiaramente questo se seguite i bodybuilders cosa fanno quando quando vogliono avere un corpo molto mascolino ebbè esercitano i muscoli il petto le braccia poi hanno le gambe secche secche perché appunto la mascolinità si trasmette con le spalle larghe con i vettorali con le braccia così anche anche Michelangelo riprende per sicure tanto Michelangelo stesso essendo uno scultore era anche molto muscoloso doveva avere un fisico anche molto muscoloso altre domande Treviso bellissimo Treviso vi amo molto Treviso o Trevigiano ogni volta che posso da Venezia quando vado a Venezia sempre scappo al Trevigiano all'Alaso lo vado a vedere fare scorta di Prosecco allora l'Italia è tutta bellissima in questo vantaggio che abbiamo rispetto al mondo benissimo io vi ringrazio vi saluto siete ancora tantissimi e ci rivediamo presto buonanotte grazie a tutti grazie a tutti